Buonasera a tutti. Iniziamo con l'appello. Passo la parola al Signor Segretario. Presente. Chiarani Simone. Presente. Comperini Silvana. Presente. Del Fabbro Claudio. Presente. Floriani Massimiliano. Presente. Ioppi Dario. Presente. Miori Stefano. Presente. Ottobre Mauro. Presente. Ravagni Andrea. Presente. Remondini Vilma. Presente. Ricci Tommaso. Presente. Rullo Giovanni. Presente. Santuliana Gabriella. Presente. Tamburini Flavio. Presente. Tavernini Maria Luisa. Presente. Todeschi Bruna. Presente. Veronesi Renato. Presente. Villi Luciano. Presente. Zampiccoli Roberto. Presente. Zanoni Marco. Presente. 22 presenti. Grazie Signor Segretario. Ringraziamo Telegarda Trentino, il signor Fabio Gallas in particolare per questa ripresa che sarà messa in onda domani. Procediamo con la nomina dei scrittatori che si propone del Fabbro Claudio. Willi. Favorevoli. Vai a posto. Passiamo ora al question time. Prego consigliere Ravagni. Sì grazie. Condivido con lei il benvenuto alle telecamere di Telegarda Trentino. Volevo, ho alcune rapide domande da parte mia e da parte anche della consigliere Bruna Todeschi. Allora, nei giorni scorsi, mi rivolgo a lei signor Sindaco o in alternativa a lei Assessore Gilerli oppure al consigliere delegato Zampicoli Roberto, perché è un tema che riguarda anche l'agricoltura. Nei giorni scorsi è stata pubblicata sia sul sito internet del Comune e comunque ha avuto dignità di stampa l'ordinanza in merito all'accensione del fuoco per poter bruciare le ramaglie. Io ho ricevuto, una volta che appunto tale cosa è stata resa nota, una istanza, una richiesta da parte di alcuni agricoltori su quello che è il discorso del bruciare le ramaglie, in particolar modo quelle di olivo, se era possibile poter anticipare anziché al primo d'aprile, ai primi di marzo, la possibilità per l'appunto di poter accendere e bruciare le ramaglie. In quanto diversamente mi dicono, io quindi mi faccio portatore della loro istanza, si accumulano per l'appunto delle ramaglie dell'immondizia sull'olivaia e potendo bruciare immediatamente, a differenza del triturare, si possono eliminare con maggiore facilità eventuali anche parassiti o malattie che poi possono andare ad attaccare successivamente la pianta di olivo. Questa era la prima domanda che volevo porre. Poi rispetto sicuramente un plauso per quello che è il posizionamento delle luci natalizie, per quello che è il centro storico di Arco, Castello e quant'altro. Richiesta che mi è pervenuta da cittadini invece residenti nelle frazioni, nelle frazioni non è stato collocato nulla, quindi si potrebbe magari anche far sentire un po' di più quella che è l'atmosfera delle feste anche nelle frazioni mettendo dell'illuminazione anche in quel luogo. Al di là del fatto, e vengo alla mia terza e penultima domanda, del fatto che le isole ecologiche a breve, secondo quello che sarà il nuovo sistema di raccolta che verrà implementato, andranno brevemente a sparire. Mi segnalano e richiedono controlli da parte delle forze di polizia, del malcostume di gettare i rifiuti in maniera scorretta, abbandonare e quant'altro, sull'isola ecologica di Via del Rì a Caneve. L'ultima question time che pongo per la giornata di oggi è relativa ad una richiesta che secondo me sarebbe necessario portare l'attenzione della provincia autonoma di Trento e lo stato in cui versa la strada provinciale, la strada provinciale per l'appunto 118 che porta a San Giorgio, a seguito anche dei lavori che sono stati fatti e si presenta con un deciso anche a vallamento. Questo la rendo ulteriormente pericolosa vista quella che ha una sua assenza e mi riferisco ovviamente al primo tratto, quello di Via Aldomoro, anche di un marciapiede, comunque della presenza anche di una ciclabile su questo tratto. Quindi se si potrebbe chiedere alla provincia, insomma che questo tratto stradale di loro competenze, per l'appunto strada provinciale 118, possa essere manutentato. Grazie. Grazie consigliere Romani, consentina Santuliana. Grazie, buonasera a tutti. Vorrei chiedere nuovamente dell'ucidazione rispetto alle barriere architettoniche in Via Capitelli. Se vi ricordate l'ho chiesto più volte. E' stato più volte sollevato il problema e risulta tutt'oggi in essere. Quindi se ci sono novità vi chiedo di farne sapere. Poi abbiamo un'altra domanda. Per quel che riguarda le schede dei centri storici, quindi chiedo di potermi rivolgere all'assessore Miori. Chiediamo dell'ucidazione, come già sollevato anche da parte mia durante le commissioni urbanistiche, sul metodo in cui è stato scelto l'architetto responsabile delle schedature, signor Piccol Roatz. In primis vorremmo sapere se l'architetto è lo stesso che faceva parte della commissione di Lizia, come membro esperto, che aveva dato parere favorevole alla demolizione e ricostruzione con l'ampliamento dell'ex Calvario. Infatti lo stesso parere alla fine non si è dimostrato in sintonia con il piano di recupero, tanto che la PAT ha mostrato forti perplessità, tali da indurre il proprietario stesso a ritirare la domanda. Ed attualmente il progetto è fermo soprattutto per questo. Visto che la sua valutazione su un edificio che andava recuperato è stata informalmente cassata dalla provincia, ci chiediamo se sia il caso di affidare un incarico così delicato ed importante per il futuro assetto paesaggistico e architettonico allo stesso professionista, il cui progetto da lui valutato conforme al paesaggio è stato infine sospeso dalla PAT. Ci chiediamo anziché dare questo compito a un architetto esperto in recuperi di centri storici, si sia deciso per un architetto appartenente all'area cosiddetta modernista. Grazie. Grazie consiglia Satoliana. Consigliere Rullo. Grazie Presidente. Volevo chiedere in merito al centro giovanile Cantiere 26 di Pravi, visto che l'affidamento all'ATI non è andato a buon fine, quali saranno i criteri che l'amministrazione adotterà per l'affidamento diretto? Grazie. Grazie consigliere Rullo. Prego consigliere del Fabbro. Grazie Presidente. Anch'io chiedo se ci sono novità in merito. appunto mi ha preceduto il consigliere Rullo. L'altra domanda che volevo fare invece era in merito agli ultimi articoli apparsi sui giornali, in riferimento al nostro nuovo teatro, che sembra dalla provincia diventare di secondo grado rispetto a un ipotetico teatro che potrebbe essere portato avanti a Riva. Io chiedo, almeno da parte del sindaco, che si faccia forza e coraggio nell'assemblea dei sindaci, insomma, vista le problematiche di questi ultimi anni, dove le risorse sono sempre meno, di cercare ovviamente di far capire che l'investimento forse sarebbe meglio evitarlo o portare le risorse, diciamo, su altri ambiti, insomma. Perché credo che il nostro teatro abbia comunque una valenza, visto anche l'ampliamento della torrescenica, di un livello sovracomunale. Grazie. Grazie consigliere del Fabbro. Altre domande? Passiamo alla risposta. Allora consigliere Ravani, chi risponde? Girelli? Prego, sottor Girelli. Grazie, signor Presidente. Allora, in realtà il periodo, insomma, non possiamo derogare perché c'è il discorso del piano antinquinamento e insieme alla polizia locale il periodo, diciamo, è stato fissato quello lì. Il discorso che approfondisco, in teoria potrebbe esserci la possibilità, però ripeto, questo lo voglio andare ad approfondire, e forse c'è la possibilità che in caso di malattie specifiche delle piante, a seguito di una certificazione di, o la fondazione MAC, o quello che può essere, ci possono essere delle deroghe. Però su questo, insomma, lo prendiamo così perché lo voglio approfondire. Però, insomma, su questo se c'è la possibilità, insomma, di lasciare parlare un attimo il consigliere Zampiccoli che approfondisce, vorrei, insomma, chiedere la sua parola. Grazie. Il consigliere Zampiccoli è disponibile? Prego, consigliere Zampiccoli. Grazie, grazie Presidente. Allora, in merito a questo argomento rispondo al consigliere Ravagni. Abbiamo incontrato oggi una rappresentanza di alcuni oliquicoltori titolari di piante sull'olivaia e nelle vicinanze del castello, che ci ponevano questo problema. Il problema, purtroppo, è legato, allora, diciamo, anticipo l'ordinanza del sindaco. È un'ordinanza che è stata concordata per la prima volta assieme a tutti i rappresentanti delle varie amministrazioni comunali. È stato frutto di un incontro che l'assessore Girelli, con la mia collaborazione, ha condotto assieme a tutti i rappresentanti e tutti gli assessori all'agricoltura e all'ambiente dei sette comuni o dei loro rappresentanti. della rappresentanza del Corpo Forestale, dei Vigili Urbani e della Polizia Locale. L'ordinanza è stata messa a frutto, appunto, tenendo conto di tutte le istanze, non ultime, quelle dell'ambiente. Appunto, è previsto un piano anti-inquidamento che scade il 31 marzo e a quella data ci siamo attenuti. Ci sono due finestre all'interno delle quali si può bruciare. Non ci sono vincoli di luogo come era previsto nelle ordinanze precedenti, per cui la legge nazionale ci permette di bruciare in qualsiasi posto, a prescindere dalla possibilità di arrivare sul posto con mezzi meccanici. E questo è un grosso vantaggio rispetto a prima. Rimangono comunque i vincoli nelle vicinanze dei boschi e delle aree dei centri urbani. Per quel che riguarda invece il problema dei problemi fitosanitari, è un falso problema, perché in realtà, diciamo, potendo aderire alla combustione, questo problema non si pone. Se ci fossero delle urgenze, in merito anche a quello che diceva l'assessore Girelli, se ci fossero delle urgenze certificate dall'APA di Trento, a questo piano si può derogare. Lì non si tratta più di una possibilità di bruciare, ma di un obbligo di bruciare, come è successo in Val di Non per gli Scopazzi, come è successo in Val Sugana per le malattie dei piccoli frutti. Quindi, diciamo, per quel che riguarda il problema fitosanitario, il problema non sussiste. Per quel che riguarda invece la possibilità di bruciare, direi che abbiamo ottenuto un grosso vantaggio dal fatto che, pur rimanendo all'interno di limiti temporali precisi che derivano dal piano antinquinamento, non siamo più vincolati a bruciare solo nei posti non raggiungibili dai mezzi meccanici. E questa ci tenevo. Il Sindaco Beta ha firmato l'ordinanza qualche giorno fa e probabilmente sarà la prima ordinanza che verrà recepita da tutti i sette sindaci della comunità in maniera omogenea. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Zampiccoli. Assessore Miori. Grazie Presidente. Io rispondo in serie a un paio di cose diverse perché il Consigliere Lavagni parlava della questione di illuminazione delle frazioni su cui ho ricevuto solleciti dai Presidenti e dai membri dei comitati di partecipazione e su cui ho fatto un minimo di approfondimento per capire come li gestiamo ordinariamente e come quindi è meglio gestirli. Ora sì effettivamente c'è stato un disguido su San Giorgio perché di solito noi illuminiamo gli alberi di Natale come comune, come cantiere comunale, mentre per quello che riguarda le altre luminarie nelle frazioni in realtà queste sono per lo più o state acquistate nel passato o comunque sono gestite dai comitati locali che siano i comitati ricreativi o cose di questo genere e quindi sono i comitati di solito a stimolare chiedendo aiuto ai vigili del fuoco oppure al cantiere la possibilità di mettere sulle luci. Invece generalmente il comune si preoccupa di fare in modo che gli alberi di Natale siano tutti quanti presenti e illuminati. Ora su San Giorgio siccome c'è stato un cantiere della GS aperto in piazza laddove ci doveva essere l'albero fino a pochi giorni prima di Natale si è riusciti a mettere in peristino all'albero ma le luci sono arrivate credo la vigilia di Natale o in quei giorni lì quindi purtroppo non così presto come era usuale ma insomma questo è dovuto diciamo anche ai lavori che stiamo facendo su San Giorgio e che appunto a breve vedranno partire la nuova pavimentazione. Vado avanti con le altre questioni, l'altra questione che mi riguarda direttamente è quella delle schede del centro storico, il rilievo è stato affidato all'architetto Pico Roaz sulla base di un bando cioè sulla base di appunto un confronto concorrenziale che abbiamo fatto e rispetto al quale l'architetto Pico Roaz ha fatto il miglior ribasso è effettivamente l'architetto membro della precedente commissione edilizia commissione edilizia che non ha ragionato soltanto su quello che è la richiesta di deroga per la demolizione dell'edificio del Calvario ma su tutte quelle che sono le pratiche edilizie che in questi ultimi anni hanno attraversato il comune di Arco quindi focalizzarsi su una sola mi permetto di dire mi sembra molto riduttivo, lascio poi al sindaco completare su questo visto che l'ha seguita in prima persona essendo che lui seguiva la commissione edilizia al tempo e comunque sia l'affidamento è avvenuto appunto sulla base di un confronto concorrenziale e è un professionista che ha seguito e curato comunque per conto del comune tramite la commissione edilizia la qualità dell'edificato del comune di Arco per diversi anni. credo che questo sia un elemento comunque che qualifica indipendentemente da quello che poi sia la linea di indirizzo in particolar modo la scuola di pensiero del particolare professionista che comunque quanto ha titoli e quanto ha referenze in università e fuori non ne è sicuramente carente. Sulla questione del Calvario lascio magari due parole al sindaco in modo che possa appunto sottolineare quali sono stati poi i caratteri effettivi e le problematiche effettive di questa situazione. Grazie. Grazie S. S. Signor Migliori, prego signor Sindaco. Grazie Presidente. Mi permetto un po', visto che le diverse tematiche che sono affrontate ma un po' come spesso accade coinvolgono un po' tutta la giunta quindi su alcune giunta o comunque anche chi come consigliere Zampicoli supporta il nostro operato, di entrare un po' tutte velocemente e rapidamente non volendo assolutamente passare sopra alle competenze dei colleghi. Ma sulle bruciature dei ramagli io terrei a sottolineare il risultato importante e vorrei ricordare che il tutto era partito con il famoso decreto terra dei fuochi in cui il nostro Presidente, non arrivò l'ottobre, nella sua veste di parlamentare ci ha dato una mano insieme anche al senatore Fravezzi quindi insomma come comune ci siamo attivati di fronte a quella Tegola che insomma era caduta, era l'unica amministrazione che tra il resto aveva questa ordinanza che consentiva le bruciature, le amministrazioni limitrofe sostanzialmente su questo tema volevano addirittura copiare la nostra ordinanza e in quel famoso decreto terra dei fuochi insomma tutto si era sospeso. Credo che vada dato atto a chi si è impegnato insomma nei vari livelli insomma che il risultato è ottimo, poi chiaramente ci sono delle normative che sono vincolanti, quello che riguarda il piano di inquinamento eccetera. Poi quando si tratta di questioni di bruciature legate a trattamenti fitosanitari credo che ci siano altri canali da seguire. Il risultato va ancora enfatizzato anche per il fatto che forse è la prima ordinanza che viene fatta in maniera uniforme, un tentativo è stato fatto sull'ordinanza delle pecore che è simile in tutte le amministrazioni però da qualche parte avevano cambiato dei giorni e questo fa parte di quel lavoro che ci siamo dati come obiettivo quello di uniformare le ordinanze in una comunità come il nostro territorio del Garda Trentino, di mettere in mano la polizia locale delle ordinanze insomma che siano uguali nei diversi comuni, dei territori che sono praticamente limitrofi immaginate a San Tommaso se si bruciasse in maniera diversa da una campagna all'altra insomma la cosa sarebbe già ridicola tra Arco e Riva del Garda ma immaginate sulla parte di confine e quindi il risultato è ottimo e credo che fa parte dell'impegno di tante persone, quella del volere ulteriormente approfondire e personalizzare ben vengano tutte le istanze ma fondamentalmente la richiesta non è possibile e poi se è una questione di fitosanitaria basta insomma rivolgersi agli organi proposti quindi credo che possono essere fatte bruciature anche al di fuori di questi termini però questa ordinanza insomma che dopo specifica sanzioni, modalità eccetera insomma è di grande apertura anche rispetto a quella che era precedente e quindi insomma credo che siano stati fatti dei passi avanti significativi che vanno un po' in quello che è l'obiettivo che ci siamo dati ovvero del semplificare, dell'aiutare quello che è i cittadini, qui si parla di cittadini che coltivano i propri appezzamenti, a facilitare quello che è insomma un po' la cura del territorio perché dopo insomma nessun organo di vigilanza andrà a vedere a controllare se stanno bruciando il cosiddetto metro ster o meno eccetera insomma io credo che vada colta nel suo spirito, chiaro che ci sono delle date che sono vincolanti però insomma c'è grande flessibilità, poi l'assessore Miori ha parlato delle luci nelle frazioni ma credo che su questo ci si possa lavorare anche con i comitati di partecipazione, con i vari cosiddette proloco ma insomma è buono che si attivino anche le singole frazioni e su questa l'amministrazione c'è, chiaro su Arco i mercatini di Natale che però insomma sono un patrimonio di tutta questa comunità, lì è andato il maggiore sforzo ma insomma l'assessore più di una volta ha cercato di essere d'aiuto, poi si coglie positivamente quello che viene suggerito ma l'attenzione nostra c'è insomma dopo è sempre un po' il conteggio costi che ci sono e un po' di ridistribuirli, poi ha segnalato delle isole ecologiche, qui è un po' una competenza sì riguardo l'assessore Girelli ma anche il vice sindaco perché comunque la videosorveglianza, uno degli aspetti importanti, stiamo lavorando sulla risoluzione perché comunque qualche immagine è stata visionata ma è che comunque le persone segnalino tempestivamente che è un'isola ecologica, c'è stato uno scarico di materiale illegale o comunque insomma in maniera non prevista da quello che è insomma le modalità classiche e consigliate, lì bisogna segnalarlo alla polizia locale che può andare a vedere e visionare i filmati che la registrazione non è per sempre ma insomma è limitata. Poi viene segnalata l'asfaltatura della 118 che è stata oggetto di opere, con la provincia ci siamo attivati e avete visto che insomma dopo anni di tentativi eccetera insomma siamo riusciti sia a portare a compimento quello che è l'asfaltatura di tutta la Santa Caterina e anche della via Capitelli. Chiaramente adesso la 118 è stata anche oggetto di opere quindi insomma noi sottoporremo il tema però ci dovrà essere anche da parte una volta che l'asfalto si sarà movimentato adesso con l'inverno attraverso questo non aiuta perché comunque ci sono degli assestamenti, dei cedimenti eccetera si andrà insomma a fare la posatura finale e la situazione migliorerà. Poi un'asfaltatura intera della 118 sì la posso sottoporre al responsabile di zona però insomma dopo aver ottenuto quei due risultati così in poco tempo sempre essere ottimisti ma insomma non lo do per scontato ma verrà fatto. Barriere architettoniche in via Capitelli credo che la consigliera si riferisse ai negozi che aveva segnalato io ho fatto quello che ha visto anche nella parte di mail insomma che ha inviato io dopo non è che ho tutti i report mi fa presupporre che ci siano stati dei controlli e se ci sono delle difformità sono state segnalate se non ci sono delle difformità non sono state segnalate io altri approfondimenti non ho fatto andrò a richiedere dopo che lei ha fatto questa question time ma non ho altro da segnalare. Sulle schede dei centri storici mi spiace insomma di cercare l'episodio specifico per creare quasi un alone di negatività io prendo tutto il positivo insomma è stato fatto un bando sono stati scelti dei professionisti abilitati che abbiano delle conoscenze del territorio l'architetto Piccolo Roatz che è stato colui che ha fatto l'offerta migliore è un conoscitore della nostra realtà se non altro per aver fatto parte della della commissione di Lizia per quattro anni le modalità e criteri cioè da parte dell'amministrazione noi abbiamo dato delle linee guida che sono quelle che hanno caratterizzato un po il nostro percorso amministrativo però sono delle linee politiche che poi devono essere declinate dal punto di vista urbanistico architettonico il lavoro che sta portando avanti per esempio una delle cose che è segnalata che probabilmente professionisti che hanno fatto le precedenti schede del centro storico non si sono accorti di presunte irregolarità dal punto di vista delle realizzazioni quindi insomma non vado a disquisire perché qualcuno non le abbia viste o meno magari le hanno fatte successivamente. Io credo che ci sono tutti i presupposti perché venga fatto un bel lavoro le linee guida comunque nostre politiche sono le solite quelle di cercare di trovare il giusto compromesso anche con la modernità appunto quindi se c'è la possibilità in determinati contesti anche di guardare quelli che sono i pannelli solari fotovoltaico di considerarlo se c'è la possibilità di determinati edifici in cui comunque ci sono degli errori palesi dove una parte in demolizione una parte invece non è in demolizione di mantenerla poi c'è una normativa su questo che si esprime noi l'unico tratto che chiediamo un po il solito quello di guardare alla tematica del cittadino quindi il lavoro se ci sono opportunità in cui si può creare lavoro in termini di ristrutturare edifici dare risposte alle esigenze che sono di vario tipo da tipo abitativo esigenze tipo usi di quei locali quindi questi sono gli indirizzi che abbiamo dato e guardando solo alla positività spiace insomma di andare a ricercare l'episodio edificio calvario tra il resto insomma un'analisi mia anche personale che ho fatto questi giorni veramente è stata data alla questione urbanistica un peso che è fuori norma ho visto l'altro giorno su comparire sulla stampa 40 metri mila 40 mila metri cubi arriva dal garda non ha detto un plif nessuno allora da quel punto di vista vuol dire è stato creato un gran casino per per davvero nulla poi probabilmente colpa anche nostra che siamo corsi dietro una cosa che 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 non esisteva e quindi io cercherei di ripartire da dal concreto dare il giusto peso le cose sul centro giovanile l'assessore sta sta lavorando i criteri sono quelli insomma gli stessi che hanno fatto il bando perché sono la base del bando chiaramente non si può aspettare un altro bando che passi un anno questo insomma noi non 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 lo vogliamo assolutamente considerare perché ci siamo messi l'idea che quel centro che è finito da poco perché comunque nella visita che abbiamo fatto da poco nel mese di novembre come avete visto insomma l'erba era stata appena completata però insomma il mese di gennaio massimo febbraio insomma deve quel centro partire di far riferimento a strutture della zona che possono dare risposta a quelli che sono i contenuti che vogliamo mettere nel nel centro giovani nuovo teatro io credo che secondo grado non è stato deliclinato dalla provincia ma piuttosto magari da altre municipalità nuovo teatro l'avevamo proprio fermato perché come era confezionato non è non dava risposta alle principali compagnie di giro senza voler entrare in competizione con altre realtà eccetera il nostro sforzo deve essere la realizzazione di quel teatro che può dare ottime risposte a tutta la comunità dell'altogarda senza paragonarsi altre strutture eccetera non vogliamo assolutamente sminuirlo perché ci crediamo tanto è vero che stiamo iniziando a ragionare sul parcheggio lungo gli ex campi da tennis con il vice sindaco proprio per dare risposta che è un teatro da 500 posti poi qualcuno da qualche parte deve parcheggiare dare anche risposte che avremo modo insomma di vedere nei prossimi settimane nel masterplan l'incontro che abbiamo avuto con i commercianti di arco quindi noi ci crediamo non parliamo secondo primo grado non è la scala questo lo sappiamo è il teatro dell'altogarda credo che qualsiasi cittadino quando ci sono 500 posti a disposizione che sia di riva di arco di tenno di nago può andare al teatro di arco appunto questo è la nostra volontà di fare una struttura che sia un gioiello dall'altra parte con i tempi che ci sono l'amministrazione è sì impegnata ma se rispetto alla palestra di via nas siamo pronti a fare tra virgolette un mutuo o qualsiasi cosa sul teatro siamo un po più cauti nel senso che ci sono anche delle priorità allora le scuole priorità massima il teatro è una priorità ma non saremo qui a suicidarsi o a dire che le cose sono date male se non lo completiamo io vorrei completarlo per la fine della consigliatura perché comunque sarebbe un fiore all'occhiello per la comunità io dico dell'altogarda perché dopo in termini realizzativi bisogna arrivare anche alla sua realizzazione però insomma con tutti gli sforzi tutto quello che dobbiamo fare però insomma con giudizio insomma quindi non far passi più lunghi della gamba se sulla scuola rischiamo sul teatro andiamo un po più più cauti però non c'è assolutamente la volontà di fare un passo indietro sulla qualità tanto è vero che noi abbiamo fatto una scelta difficile che è stata quella di sospendere i lavori perché il risultato finale non dava risposta a quello che noi avevamo in mente poi a dire la verità sui contenuti se sarà più teatro se sarà più dedicato ai concerti musicali o meno questo io credo una volta che sarà anche fatta la scatola e andremo a vedere come declinarlo al meglio con le sue funzionalità oggi credo che anche il passaggio della scuola musicale all'interno del casino di Arco vada nella direzione comunque di che queste due strutture dialoghino e siano vive insomma oggi lo chiamiamo tutti teatro magari scopreremo che sarà più un auditorium ci saranno le rappresentazioni teatrali perché magari in Alto Garda ci sarà un teatro da duemila posti come magari invece sarà l'unico teatro in Alto Garda e terremo quello oggi andiamo avanti decisi sulla qualità e arrivare alla scatola grazie grazie signor sindaco hanno esaurito tutte le risposte passiamo alle interrogazioni allora interrogazioni di data 30 settembre presentata dai gruppi consigliari Movimento 5 Stelle Arco Futura e Arco Virtuosa avente ad oggetto agricampeggio in via Mantua risponde l'assessore Miori mi ritengo non soddisfatto in quanto in realtà non si dà risposta ai nostri interrogativi e ai nostri rilievi in merito alla possibilità di impatto ambientale che l'agricampeggio potrà avere sull'area e riteniamo che citare l'articolo 3 della Costituzione sarebbe stato più opportuno che lo ricordo stabilisce uguali parità dignità sociale per tutti i cittadini sarebbe stato magari più opportuno citarlo in merito ad altre occasioni come la mozione portata avanti da noi per riportare gli 11 ragazzi disabili dall'Occa di Concei ad Arco grazie grazie consigliere Rullo noi abbiamo adesso il punto 2, punto 3, punto 4, il 5 e il 6 che mancano le risposte passiamo al punto 7 integrazione di data 10 dicembre pesata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle avente ad oggetto ammissione ragazzi disabili consigliere Rullo sì grazie mi ritengo abbastanza soddisfatto perché constato la consapevolezza da parte della dirigenza di SMAG di poter fare ancora di più di quanto già realizzato sino ad ora per gli studenti disabili visto che apprendo appunto dalla risposta alla nostra interrogazione che sono stati progettati dei moduli specifici di aggiornamento per gli insegnanti sulla disabilità e sulla musicoterapia quindi siamo soddisfatti grazie grazie consigliere Rullo mozione di data 10 settembre presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle avente ad oggetto interventi di prevenzione e creazione in marchio slot machine free consigliera Santuliana passo la lettura completa della mozione premesso che i dati forniti dall'amministrazione autonoma monopoli di stati che per lo stato italiano regola e controlla l'intero comparto dei giochi confermano la grande espansione del gioco d'azzardo in tutte le regioni d'Italia il gioco d'azzardo infatti è la terza industria italiana con il 12% della spesa delle famiglie una raccolta nazionale di circa 80 miliardi di euro nel 2011 5.000 aziende 120.000 addetti 400.000 slot machine 6.181 punti di gioco autorizzati il 4% del PIN nazionale oltre il 15% del mercato europeo e oltre il 4,4% del mercato mondiale il 23% del mercato mondiale del gioco online sono 15 milioni i giocatori abituali di cui 2 milioni a rischio patologico e circa 800.000 i giocatori già malati sono necessari 5-6 miliardi l'anno per curare i dipendenti dal gioco patologico dalle tasse sul gioco ne vengono incassate meno di 8 che i dati dimostrano una grande diffusione del gioco anche tra gli adolescenti e che le persone più interessate al gioco sono le fasce più deboli e fragili della nostra società chi ha una minore scolarizzazione chi ha un lavoro più precario chi ha in difficoltà nel trovare una propria identità che nel nostro comune vige una regolamentazione urbanistica che impedisce l'apertura di sale da gioco a meno di mezzo chilometro di distanza dagli edifici ritenuti sensibili come scuole, ospedale, case di cura, centri giovanili, edifici pubblici, banche e luoghi di culto che in PAT è stato presentato il decreto di legge numero 4315 di iniziativa consigliare con prima firmataria la consigliera PD Ploteger Violetta a titolo Prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico in cui si fa riferimento a, e cito forme di premialità per coloro che espongono i marchi di responsabilità etica approvati allo scopo che nel comune di Trento esiste già un bar slot machine free con marchio etico contro il gioco d'azzardo che in altre parti d'Italia, grazie al marchio slot free air gli esercizi, oltre a rivendicare con orgoglio che in quelli locali si dice no all'azzardo possono godere di alcune incentivazioni e agevolazioni di carattere economico stabilite dal loro comune di riferimento che in data 16 agosto 2011 è stata depositata con protocollo numero 20 2019 una mozione presentata dal PD facente riferimento alla problematica della diffusione del gioco d'azzardo lecito in cui venivano richiesti controlli specifici e riconoscimento del marchio family per i locali in cui le slot machines non venissero installate che nella mozione con protocollo numero 1981 del 24 gennaio 2013 presentata da amministrare il Trentino e Udc per arco venivano già richiesti incentivi fiscali per gli esercizi pubblici nei quali non vi siano presenti video poker considerato che la dipendenza dal gioco è una vera e propria malattia che compromette lo stato di salute fisica e psichica del giocatore il quale non riuscirà a uscirne da solo il malato di gioco GAP gioco d'azzardo patologico infatti è cronicamente e progressivamente incapace di resistere all'impulso di giocare e spesso si trova nella condizione di dover chiedere prestiti a usuraio a fonti illegali oppure di venire arrestato per falsificazione, frode, appropriazione indebita o evasione fiscale mirate a ottenere danaro per giocare a volte giunge la perdita del lavoro per assenteismo tutto questo produce sofferenza e difficoltà di relazione anche all'interno della famiglia litigi e vulnerabilità fino al suicidio che gli effetti economici e sociali del gioco d'azzardo sono devastanti come confermati dai volumi di gioco che secondo il report di Azzardopoli dell'associazione Libera ammonta circa 90 miliardi di euro facendo del gioco d'azzardo la testa industria del paese e che rappresenta circa il 4% del PIL che nella maggior parte dei casi la patologia di GAP oggi riconosciuta a livello nazionale nei LEA cioè a livelli essenziali di assistenza non è suffragata da finanziamenti per interventi del servizio sanitario tanto che nel nostro paese si è prodotta una situazione a macchia di leopardo con aree completamente prive di assistenza specifica e aree dove la sensibilità di alcune amministrazioni o operatori del privato sociale ha saputo creare servizi ed interventi efficaci che la dipendenza da gioco si configura come una questione socio-sanitaria che coinvolge il sistema sanitario nazionale le ASL e le amministrazioni locali e le comunità nel loro insieme occorre garantire ai giocatori patologici gli stessi diritti riconosciuti ai malati di altre dipendenze il diritto alla cura gratuita e il diritto al mantenimento del posto di lavoro durante la cura il gioco d'azzardo costa il Trentino 570 milioni di euro dati AMA che, secondo i dati di AMA quindi l'associazione Auto Mutuo Aiuto 15.000 persone sono vittime della dipendenza o a rischio di diventarlo per una spesa annua per la collettività di 38.000 euro per ciascuna di esse che i costi diretti per il Trentino sono stimati in 18.095 euro per giocatore e sono quelli legati ai ricoveri trattamenti ambulatoriali procedure di divorzi o crimini legati al gioco d'azzardo i costi indiretti invece ammontano a 20.714 euro in questa classe troviamo la perdita del posto di lavoro l'assenteismo e il calo di produttività che la diffusione del gioco d'azzardo ha conseguenze devastanti sul risparmio e sulle condizioni economiche delle famiglie che, come risulta da ricerche nazionali spendono nel gioco somme maggiori che nell'educazione e nella salute dei propri figli secondo il Codacons la diffusione di massa del gioco d'azzardo è tra le prime cause di indebitamento delle famiglie che il dossier azzardopoli quantifica in circa 6 miliardi di euro i costi sociali e sanitari che il gioco d'azzardo patologico comporta per la collettività che il gettito fiscale annuale è di circa 8 miliardi i dati sono del 2012 e che quindi questo affare peraltro contraddistinto da una marcata evasione fiscale non sia poi così conveniente per le casse erariali tutto ciò premesso e considerato chiediamo che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta Comunale a punto 1 creare o riconoscere e introdurre sulla base delle migliori pratiche a livello nazionale un marchio per i locali virtuosi che decideranno di non inserire al loro interno slot machine per permettere di essere riconosciuti come slot machine free punto 2 ridurre le aliquote delle imposte valenze comunali e gli stessi conduttori che accetteranno tale sfida punto 3 pubblicizzare i locali slot machine free senza spese con opportune campagne pubblicitarie su un notiziario comunale all'interno del sito del nostro comune in modo da dare risalto ad una scelta etica come quella di non guadagnare col gioco d'azzardo punto 4 promuovere attraverso l'assessorato e servizi sociali interventi educativi ed informazioni culturali e formativi per ritrovare il piacere nelle cose della vita quotidiana nelle relazioni nel lavoro, nello sviluppo dei talenti nella fatica, nell'amicizia nella condivisione delle esperienze nelle radici della cultura da cui trarre le ragioni e le prospettive della vita al punto 5 attivare sul sito web del comune uno specifico spazio dedicato alle informazioni e alla sensibilizzazione della popolazione sul tema del gioco d'azzardo grazie grazie consigliera Santuliana prego vice sindaco sì grazie presidente ma diciamo che va subito evidenziato chiaramente l'interesse che anche da parte dell'amministrazione comunale ha destato questa mozione perché è una mozione che tocca un tema estremamente sensibile anche se in parte conosciuto si trascina da anni e in parte anche già discusso in consiglio comunale anche se in maniera molto più parziale perché sostanzialmente approfondiva meno quello che era tutto l'aspetto di carattere sociale e possibilità di iniziative anche verso quel fronte più che altro spostava l'attenzione attraverso una facilitazione diciamo di carattere tassativo negli eventuali aderenti diciamo che abbiamo fatto qualche approfondimento più che altro con i comuni di Trento che ha recentemente dico recentemente adesso io le verifiche le ho fatte ancora in settembre perché è un po' datata questa mozione magari c'è stata anche qualche evoluzione rispetto a questa che appunto ha diciamo attuato questo marchio che si chiama Gioco d'Azzardo No Grazie è un marchio appunto che per certi aspetti sembra prendere già un po' atto di quelli che sono parzialmente i contenuti anche della vostra mozione va detto che è stato un percorso diciamo abbastanza lungo e articolato quello della codifica e della definizione appunto da parte del Comune perché è iniziato ancora nel 2012 e poi in realtà si è attuato i primi giorni di settembre con appunto la sottoscrizione della Convenzione con con un ufficio che non abbiamo e potrebbe eventualmente essere sostituito dall'ufficio attività economica perché è un ufficio di sviluppo economico studi e statistica che sarà quello che appunto porterà avanti questo tipo di iniziativa ecco è nel caso di Trento un riconoscimento formale che appunto è segnato dal Comune a nome dell'Alleanza per la tutela e responsabilità condivisa nel contrasto e nella prevenzione del gioco d'azzardo patologico ecco che attesta e premia la scelta etica compiuta appunto dai pubblici esercizi operanti sul territorio comunale e di esprimere con azioni concrete la propria contrarietà nei confronti del gioco d'azzardo patologico e quindi lo stesso marchio sostanzialmente definisce molto bene questo aspetto ecco il marco viene assegnato a seguito di un formale riconoscimento da parte di una commissione formata da rappresentanti degli enti sottoscrittori di questa alleanza che è stata costituita può essere richiesto da pubblici esercizi che per scelta abbiano tolto o non abbiano inserito nei propri locali possibilità di gioco d'azzardo di qualsiasi natura intendiamo quindi slot che sono le più caratterizzanti ma anche altre tipologie e gli stessi gratta e vinci sono considerati anche gioco d'azzardo per certi aspetti la segnalazione appunto di questi esercizi che lo richiedono viene inviata a questo servizio economico studi e statistiche utilizzando un apposito facsimile che ha predisposto il comune sostanzialmente nella quale esistono tutti questi impegni parimenti chi riceve il marchio deve assumersi una serie di impegni che non consentire come dicevo prima nei propri locali possibilità di gioco d'azzardo di qualsiasi natura avere effettuato in tal senso una scelta consapevole di natura etica è una conseguenza questa contribuire a favorire un'azione educante di sensibilizzazione sociale sulle tematiche d'azzardo del gioco sociale e più in generale sulla responsabilità sociale dell'intera comunità per il benessere dei cittadini cioè uno potrebbe anche fare delle azioni tematiche all'interno della struttura volte a questo e quindi spiegare il perché di questa scelta mettere a disposizione nel proprio campo di attività il materiale informativo appunto per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico e non pubblicizzare conseguentemente il gioco d'azzardo perché poi faccio una parentesi è un paradosso perché tutta una serie di enti territoriali a vario livello investono risorse e tempo in un'azione sostanzialmente di contrasto e di recupero delle conseguenze di questa situazione dall'altra abbiamo uno Stato da sempre non si tratta di governi di centro-destra più di centro-sinistra che progressivamente va aumentando gli investimenti rivolti a questo perché è chiaro che sono una fonte di reddito significativa poi bisognerebbe vedere mettere sulla bilancia quali sono chiaramente le entrate e quali sono i danni di carattere sociale che questi portano ecco questo per dire che voglio dire ci ha destato attenzione questo tipo di mozione e abbiamo fatto almeno per quanto riguarda e per quanto mi compete gli interessamenti che se ci dovesse voglio dire accogliere in parte voglio dire o completamente questa mozione dovrà seguire diciamo l'ufficio alle attività economiche è chiaro è chiaro dico che non è facile sostanzialmente trovare poi un ritorno una disponibilità perché il ritorno economico è ancora significativo esempio del comune di Trento che esercizi che si caratterizzano in questo tipo ne ha parecchi a settembre non so se ce ne sono stati altri ha avuto la distribuzione di tre marchi fino ad ora sono decisamente pochini il comune di Trento mantiene in capo l'esecutivo diciamo quelle che sono le iniziative eventualmente di a favore diciamo di questi e non specifica voglio dire come sembra specificare in maniera più precisa la vostra mozione una riduzione di carattere tassativo ecco la mozione appunto perché parliamo poi anche di tasse precedente fu respinta proprio perché legata a cosa nell'apparenza che ci fosse diciamo almeno a quel tempo un'impossibilità è pur vero che invece meno notizia voglio dire che alcuni comuni sulla tassazione hanno fatto degli interventi di riduzione credo sulla tasi credo ecco e questo è un aspetto che poi magari riguarderà anche diciamo l'assessorato alle finanze piuttosto che al bilancio e via dicendo c'è un aspetto che curerà la collega Girelli di grande caratterizzazione sociale rispetto alla quale poi perché poi la mozione si sposta un po' dice da una parte ragioniamo sulla questione del marchio e investiamo su questo aspetto però nel contempo facciamo tutta una serie di azioni legate ad altri ambiti di cui non mi occupo ripeto si occuperà la mia collega ecco io mi fermo qua eventualmente ma credo che già conoscevate questa iniziativa però mi sembrava così anche interessante comunicare al Consiglio Comunale che esistono iniziative in questo genere eventualmente poi sono anche disponibili a dare maggiori maggiore integrazioni rispetto a questa cosa e ringrazio ancora appunto per il tema che avete posto grazie vice sindaco prego sora Girelli grazie presidente allora per quanto riguarda quindi tutto l'aspetto dell'assessorato al sociale brevemente un po' ciò che è in atto per quanto riguarda insomma tutto il discorso dipendenza e soprattutto questo aspetto qua allora nel maggio del 2012 viene sottoscritta un'alleanza tra il Comune di Trento e l'associazione AMA automuto aiuto quindi che si appunto si chiama alleanza per la tutela e la responsabilità condivisa nel contrasto nella prevenzione del gioco d'azzardo patologico da qui nascono ovviamente diversi percorsi di informazione sensibilizzazione e questo arriva anche al Comune di Arco nel senso che proprio fisicamente tutto ciò che viene organizzato dai vari comuni gli enti ci sono dentro Caritas Consolida Servizi Sanitari Casse Rurali e via ce ne sono altri insomma che hanno sottoscritto l'alleanza ogni volta che organizzano principalmente serate comunque occasioni di informazione e sensibilizzazione comunicano a altri enti che comunque non hanno sottoscritto appunto il Comune di Arco non ha sottoscritto nel 2012 e ancora non adesso l'alleanza però comunque tutto ciò arriva e quindi il Comune ha tutta la possibilità di aderire pubblicizzare e comunque coinvolgere e essere coinvolto in queste attività di sensibilizzazione quindi quello che è stato fatto insomma in quest'ultimo mese grazie assolutamente alla mozione è stato chiedere agli uffici se c'era la possibilità di informarsi di poter sottoscrivere anche noi l'alleanza per essere comunque anche se è un piccolo gesto fare un qualcosina in più per essere ancora più coinvolti anche attivamente detto questo comunque a livello di comunità ai vari interventi che fanno anche nelle politiche giovanili Family Time ma anche l'associazione dell'oratorio Arco Noi anche proprio in quest'ultima settimana ha avuto degli incontri ci sono diverse attività diversi interventi ripeto sempre di sensibilizzazione sulle dipendenze più in generale ma che comunque si può andare a a strutturare organizzare qualcosa di specifico anche su questo e quindi in generale per dire che che qualcosa c'è c'è stato e quello che il Comune di Arco può fare secondo me è richiamare la mozione che ai primi consigli quella diciamo abbiamo provato sul discorso proprio dei giovani che stanno vivendo un momento di disagio sul coinvolgere la scuola e quindi questo richiamare fortemente questa mozione cosa che già con la scuola stiamo lavorando e ricalcare quella e inserire profondamente anche questo argomento più nel profondo insomma ecco tutto qui grazie grazie sessore Girelli consigliere Tamburini prego grazie presidente adesso mi devo allora su questo tema sapete a parte la sensibilità personale legata al mio lavoro ma già come coordinatore del gruppo del partito democratico avevo coordinato la presentazione a nome di tutta la maggioranza in realtà che allora reggeva il Comune di Arco della prima delibera che poi era stata in parte modificata e corrego quello che aveva affermato la consigliere Santuliana perché avevamo tolto il marchio family perché il marchio family è legato a una specifica caratteristica legata alla famiglia e ad esempio non tutti i tabacchini offrono prodotti che sono tutelabili dal marchio family insomma non voglio dilungarmi in questo e ovviamente tutto ciò che riguarda le azioni su questo tema ci vedono molto sensibili io ho un fascicolo che tengo comunque aggiornato al di là delle mozioni e del tema che viene trattato in Consiglio Comunale che si sta gonfiando giorno dopo giorno di articoli e di numeri preoccupanti dirò che rispetto alla mozione presentata nel 2013 e nel 2011 ci sono anche molte novità che vedo trattate in questi articoli che si trovano sulla stampa e anche nei giornali specializzati cito insieme a Narcomafia anche di Libera che ha dedicato un numero monografico ai giochi segnalando il paradosso come aveva già anticipato il vice sindaco di uno stato che è curatore e colui che propone il gioco soltanto un piccolo contributo cercherò di essere veloce vado nel merito diretto qui una delle contraddizioni che mi pare avete già capito un po' la nostra opinione su questo è quella di creare un marchio se ogni comune si crea un marchio evidentemente si perde di vista una azione coordinata e globale che invece su questo tema è importantissima penso che dovremmo in qualche modo farci promotori perché il marco sia a livello provinciale il marchio che voi citate slot free della regione Emilia Romagna è un marchio regionale e quindi come marchio regionale evidentemente primo viene mediato nella proposta dei contenuti e trova forse maggiore sensibilità da parte degli esergenti perché il marchio Trentino è estremamente rigoroso l'ha detto prima il vice sindaco io ho parlato con qualche tabaccaio Trentino non potrebbero prenderlo per il solo fatto di avere i grattevinci che è pur sempre una forma di gioco che può dare patologia però è pur vero che è una diciamo così non è il grave problema il grave problema sono le slot la presenza nei bar la presenza di queste macchine mangia soldi che nella modalità del gioco fanno della velocità e della continuità la loro grave forma di dipendenza quindi questa è una delle prime sollecitazioni ad esempio il marchio comunque emiliano è riferito soltanto alle slot non agli altri giochi e questa era già una delle questioni che volevo porre seconda questione mi stupisce un po' che il comune di Trento abbia fatto un lavoro così grande così corposo per limitarlo al proprio comune e a tre esercenti che poi se avete visto quali sono le caratteristiche dei tre bar che lo hanno aperti sono bar di tipo sociale legati a proprietari o comunque gestori che hanno una sensibilità etica già di proprio insomma quindi hanno trovato nel logo una realizzazione è un'etichetta in più ma in realtà non hanno fatto questo per il logo erano già molto in sintonia certo quello che prevede AMA nel protocollo è molto molto rigido e qui vado a un altro punto nel 2012 era stato fatto dall'ufficio attività economiche un censimento qui ci sono tutti più o meno i nostri locali pubblici dai rivenditori di generi del monopolio ai pubblici esercizi che hanno comunque contatti con il pubblico allora a quel tempo erano veramente pochi quelli che avevano le macchinette le slot machine in realtà se dovessimo rifare oggi non cambierebbero molto i locali che hanno le slot machine cambierebbero i numeri alcuni di questi hanno triplicato le macchinette resta il fatto che molti di questi esercizi comunque non potrebbero avere il marchio targato AMA perché in realtà hanno comunque forme di gioco che il protocollo AMA non prevede e questo secondo me è un limite però certamente forse è arrivato il momento di cambiare un po' il livello dell'azione sul gioco perché quando ci eravamo preparati e mi ero preparato in modo particolare sull'altra mozione il gioco al tabacchino il gioco al bar la slot machine era il gioco predominante oggi il gioco che sostituirà tutti quei giochi come è successo per altre tipologie di prodotti diciamo così proibiti è il gioco che sta nel web se oggi l'avevo già citato nel 2013 ma oggi voi guardate fate un 10 minuti di zapping sulle tv voi trovate mi pare allora avevo detto due canali oggi forse sono tre o quattro canali che trasmettono a qualsiasi ore del giorno giocatori di poker o quant'altro incentivi al gioco e con una carta prepagata che è accessibilissima perché la fa la posta la fa la banca la fa la cassa rurale la fa la cassa di risparmio si può giocare online e si rischia veramente di non vedere più i giocatori restano ancora ovviamente numerose slot machine restano fenomeni di coinvolgimento dei minori quello che citavo prima come un problema non grave cioè quello del gratta e vinci effettivamente tutte le statistiche dicono che non è un problema enorme però è vero che è la prima forma di gioco che riguarda i minori perché in realtà in qualche modo il gratta e vinci è la loro dipendenza ne comprano uno vincono due euro ne comprano un altro diciamo che è la porta d'ingresso il vero problema nel futuro comunque sarà il gioco web lì ovviamente non ci sono proibizioni non ci sono etichette non ci sono loghi che tengano lì si può puntare solo e unicamente sulla formazione e rafforzamento della personalità degli individui quindi sicuramente quella è la strada e da questo punto di vista penso che l'associazione di automutuo aiuto sia un valido sostenitore sia un valido rappresentante di ciò che viene fatto nell'eccellenza in Trentino quindi la proposta che fa la maggioranza poi è quella di non approvare una mozione così stringente ma l'idea nostra era quella di come diceva poi l'assessore anche Girelli di cercare di lasciare aperte le porte di approfittare di questa serata per rilanciare il tema e rilanciare gli interventi l'ordine del giorno che volevo proporvi prende atto di ciò che voi avevate scritto quindi considerato che il tema del gioco patologico è un problema sociale di rilevanza e attualità il gioco sta spostando dai luoghi pubblici Barta Baccherie all'interno delle mura domestiche attraverso il gioco online considerato che un'azione educativa formativa deve coinvolgere quanti più soggetti portatori di interesse attivi con i giovani che sono comunque da sostenere gli esercizi commerciali che decidano di rimuovere il gioco d'azzardo dei propri locali il Consiglio Comunale di Arco chiede al Sindaco e all'assessore competente di attivarsi per valutare la definizione di un accordo con l'associazione di mutuo aiuto AMA sul modello dell'accordo sottoscritto dal Comune di Trento possiamo anche chiedere se lo riterremo se lo riterranno gli uffici che questa stringente forbice che in realtà è a taglio di altezza zero cioè nessun tipo di gioco quindi lì diventa veramente un problema per noi sia anche limitata e poi al fine di verificare se sia possibile la sottoscrizione di un'alleanza contro il gioco d'azzardo patologico che veda partecipi soggetti diversi comuni enti operatori economici realtà sociali che impegna il Consiglio il Sindaco e l'Assessore e la Giunta nell'approfondire la possibilità tramite gli uffici preposti del Comune di Arco di adottare anche per gli esercizi commerciali che non hanno installato o rimuoveranno gli strumenti per il gioco d'azzardo il marchio gioco d'azzardo donograti il marchio è molto generico non è male e richiama proprio le slot machine questa è una proposta che vuol dire esattamente quello che avevamo fatto l'altra volta lavoriamoci soprattutto dal punto di vista educativo ricordo che l'altra volta avevamo anche inserito poi una norma urbanistica che limitava i numeri di posti in modo da cercare di limitare poi l'apertura di nuove sale e in qualche modo ci eravamo riusciti se poi vedete le tipologie di ricorsi che vengono fatti da chi rappresenta i produttori di macchinette per il gioco vedrete che spesso sono coinvolti gli istituti comprensivi scolastici quasi come se dovessero fronteggiare un nemico cioè i formatori sono i nemici evidentemente di questi giochi e di chi li produce quindi questa era la nostra proposta possiamo aggiungere anche di approfondire visto che il vice sindaco l'ha citato qui non l'avevo scritto ma possiamo aggiungere la possibilità di ridurre alcune aliquote per lasciare aperta la verifica insomma di questa di questa strada il tema sul tema evidentemente noi ci siamo e vorrei anzi che fossero fatti più incontri perché su questa cosa bisogna essere martellanti poi una volta all'anno scappano via il gioco è lì tutti i giorni puntuale la pubblicità in tv è martellante quella non è contate quattro reti contate tutte le reti tutti i giorni propongono pubblicità sul gioco d'azzardo ecco quindi la proposta è quella di affiancare un ordine del giorno evidentemente fra i punti che non avevamo considerato perché sembravano non possibili ma ora mi pare si sta aprendo una finestra su questo è quello della riduzione dell'aliquota di qualche tipologia di aliquote anche se non sarà questa evidentemente a fare la differenza io credo molto che la formazione sia la strada vincente perché dal punto di vista economico chi ha rinunciato l'esercente con cui parlavo a Trento fra le varie forme di gioco ha rinunciato alle slot e lui mi dice ho rinunciato ogni mese all'affitto di tutto l'anno non so se capite la proporzione ogni mese rinuncio all'affitto di tutto l'anno quindi vuol dire che ogni mese c'è una produzione che non ci sono tasse che la pagano anche se pagasse zero di molto insomma evidentemente lui ha fatto le scelte che moralmente si sentiva di fare ha tenuto i giochi classici il lotto la slot machine è veramente una mangia soldi ed è fuori dal controllo perché sulle slot machine giocano anche i minori senza possibilità di buttarli fuori e fare delle azioni di polizia in un locale quindi insomma anche loro sono sensibili a questo tema evidentemente a molti di loro che hanno sensibilità rispetto ai giovani ai ragazzi e comunque questo si pongono anche in una situazione di scarsa concorrenza perché chi accetta le macchinette evidentemente si pone a un livello economico molto maggiore di sicurezza in questo momento poi di crisi rispetto a loro che non fanno questa scelta quindi sostenerli dal punto di vista della formazione verificare se si possa attivare l'ha citato prima il sindaco mi piacerebbe che queste azioni non fossero azioni comunali ma che ci fosse la forza di farle diventare azioni provinciali questo marchio non ha nessuna ragione che ogni comune debba rincorrerlo dovrebbe esserci una regia provinciale che in qualche modo stimola i comuni evidentemente a metterlo a disposizione ma non a dover attivare tutta la procedura per poterlo fare perché questa cosa è abbastanza assurda insomma e quindi anche questo può essere uno dei compiti che potremmo darci quello di cercare di aprire anche agli altri comuni questo tipo di sensibilità questo tipo di alleanza e perché no avere almeno sul territorio della comunità di valle se proprio a livello provinciale non si muove nulla o dobbiamo aspettare qualche anno almeno avere noi l'idea di proporre questo marchio ma a livello che non sia solo sul comune di Arco insomma grazie presidente grazie consigliere Tamburini prego consigliere Santogliana ringrazio tutti per gli interventi molto specifici soltanto per completare insomma siamo pienamente consapevoli che una detassazione non va assolutamente a coprire quello che una persona per etica decide di fare però siamo convinti che valorizzare incentivare il buon comportamento sia a volte più utile che che multare diciamo i cattivi comportamenti quindi se ci lasciate modo o se ci insomma se ci permettete di vedere l'ordine del giorno e se come ho capito viene inserito consigliere Tamburini viene inserito l'argomento della sì ecco va bene solo questo grazie sì poi facciamo una breve sospensione per il consigliere Ravani sì grazie presidente niente l'inizio del mio intervento in primo luogo condivido in toto la mozione che i colleghi del movimento 5 stelle hanno presentato e li ringrazio di aver riportato anche in un passaggio l'intervento attraverso mozione che avevo fatto nella passata legislatura quindi dopodiché se sarà un ordine del giorno implementato con alcuni aspetti che ci sono all'interno della mozione se sarà magari anche la viceversa perché potrebbe essere che anche la mozione dei 5 stelle a contrario potrebbe essere integrata con i temi che sono stati portati dal consigliere Tamburini che sono abbastanza simili si possa oggettivamente arrivare ad un testo unico quindi per noi non è fondamentale il come il primo aspetto da cui volevo partire è quello che ha sottolineato il vice sindaco siamo qua oggettivamente a discutere di un tema cercare di contrastare per l'appunto in un certo qual modo con alcuni provvedimenti gioco d'azzardo quando a contrario invece ci si trova uno stato che invece lo incentiva attraverso le pubblicità e addirittura dei parlamentari della nostra regione fra cui ricordo il senatore Fravezzi che eventualmente spero di non ricordare male hanno votato un dispositivo che vada addirittura a penalizzare i comuni che vanno a contrastare gioco d'azzardo quindi penso che siamo veramente all'assurdo rispetto a questa cosa quindi che dire io spero che oggettivamente o attraverso l'ordine del giorno o attraverso la mozione o con entrambi perché no questa sera si possa dare ancora un segnale importante su questo tema a questo punto nell'eventuale ovvio minuto di periodo di sospensione che lei ha chiesto mi permetterei a questo punto di poter inserire anch'io se possibile sia auspicabile un piccolo emendamento affinché l'impegno possa essere anche quello della commissione urbanistica consigliere Tamburini e assessore Miori della commissione urbanistica affinché possa essere fatta una valutazione che eventualmente adesso non ricordo se questa regola era già o meno inserita chi vuole posizionare delle slot machine lo faccia solo ed esclusivamente cioè lo possa fare solo ed esclusivamente se lo fa a determinate distanze dai cosiddetti luoghi sensibili se questa norma è già prevista tanto meglio chiedo scusa della mia eventuale ripetizione ecco perché sapevo che c'era la volontà di inserirla però poi sorgevano delle difficoltà effettive rispetto anche alla determinazione di quelli che oggettivamente sono nei luoghi tutti se c'è già tanto meglio ribadisco per quanto ci riguarda può essere o implementata la mozione dei 5 stelle e attraverso quanto è esposto dal consigliere Tamburini oppure viceversa la sostanza obiettivamente cambia poco per noi grazie consigliere Ravani ma vorrei dare il mio piccolo contributo a questa assemblea ma io non ero presente nella scorsa legislatura consigliatura scusate ma ricordo perfettamente che l'ex assessore Roberto Bresciani aveva fatto una norma urbanistica proprio che andava in questo senso dove diceva lei consigliere Ravani dove non si poteva aprire attività commerciali di questo tipo vicino ai luoghi sensibili quali le scuole eccetera e ricordo anche che fu il primo comune in Trentino che fece questa cosa e anticipò i tempi e dopo a ruota alcuni comuni lo seguirono quindi un ringraziamento anche particolare all'ex assessore Bresciani che credo che in questo momento vada tutta la nostra sostegno per quello che sta passando quindi io sospengo la seduta per 5 minuti 10 capigruppo 10 minuti grazie e avrei bisogno dei capogruppo che sottoscrivono la modifica della mozione in modo da depositare il testo coordinato e modificato movimento 5 stelle magari mentre i capigruppo firmano tecnicamente abbiamo fatto questa operazione abbiamo mantenuto il testo e le premesse della mozione originale e abbiamo aggiunto ciò che era stato preparato dalla maggioranza come ordine del giorno che poi non lo era come parte deliberativa ci siamo trovati d'accordo come capogruppo di fare queste modifiche quindi la depositiamo senza darne lettura con le modifiche che praticamente tengono conto della sostanza esposta prima durante il dibattito e tolgono una perentorietà che avrebbe altrimenti messo in difficoltà un pochino l'amministrazione lasciando invece più spazio per l'azione e l'approfondimento che intendiamo naturalmente fare se è fatto se nessuno consigliere del fabbro prego sì grazie presidente io faccio la dichiarazione di voto e faccio anche un breve intervento visto che non ho preso parola prima confermo che la commissione urbanistica qualche anno fa ha modificato la norma proprio per migliorare appunto i nuovi insediamenti del gioco d'azzardo e se non ricordo male si era esteso i 100 o 150 metri a 500 metri dalle zone sensibili tra le quali ovviamente prima di tutto le scuole proprio per cercare di distanziare il più possibile questi aspetti dalle zone diciamo più delicate come intervento e come dichiarazione di voto io credo che la dipendenza dal gioco d'azzardo purtroppo colpisce Arco ma colpisce principalmente tutta la nazione e purtroppo anche ormai tutte le fasce d'età colpisce persone che generalmente sono fragili e che cercano nel gioco appunto una via di fuga o una via d'uscita dalla precarietà purtroppo l'Italia è al primo posto perché è il più grande mercato in Europa negli ultimi sette anni in Italia c'è stato un incremento del gioco del ben 450% che è passato da 22 miliardi di euro nel 2004 a 80 miliardi di euro nel 2011 quindi questo è un incremento sicuramente spaventoso e il trend è sempre chiaramente in crescita e il problema è che un altro dato riguardante gli studenti che in Italia più di un milione ha giocato almeno una volta al gioco d'azzardo e alle macchine d'azzardo io come giovane spesso vado fiero di essere italiano ma su alcuni aspetti tante volte purtroppo me ne vergogno è chiaro che noi dobbiamo e dobbiamo impegnarci appunto a fare il possibile per cercare di migliorare questo problema ma purtroppo ai me chi ci governa dall'alto gli va bene che questa situazione continui con questo trend e con questo sistema paradossalmente pensiamo al problema della prostituzione che è vietata ma c'è lo sappiamo benissimo ma non si vuole regolarizzare perché basterebbe poco pensiamo obbligare i giocatori a una semplice tessera prima di giocare dove bisogna iscriversi mettere tutti i propri dati e questa tessera semplicemente abbia un limite dove ovviamente uno può giocare fino a una certa soglia dopodiché la macchina non funziona più io penso che i modi se si vuole potrebbero esserci benissimo per risolvere questo problema ma in me appunto sicuramente c'è chi questo non lo vuole ho riscontrato che dall'ultimo documento inserito nell'ultima manovra economica e finanziaria del governo prevede maggiori introiti dal gioco d'azzardo per 392 milioni di euro quindi è chiaro il segnale ovviamente non si vuole risolvere il problema quindi appunto per dichiarazione di voto io e il mio gruppo siamo sicuramente favorevoli è ovvio che è un piccolo sassolino non faremo sicuramente molto ma sicuramente se ci impegniamo magari con la comunità di valle l'unione fa la forza e sicuramente riusciamo a essere e agire nel migliore dei modi quindi è un auspicio anche se la strada è ancora molto lunga e difficile grazie grazie consigliere del fabbro c'era la consigliere Santuliana o Parlarullo prego sì grazie allora in dichiarazione di voto avendo noi presentato il tema attraverso la nostra mozione non possiamo che sottoscrivere la nuova mozione che è uscita appunto ora dal capigruppo perché il tema per noi è talmente rilevante è urgente che viene meno ovviamente il fatto di mettere il proprio simbolo su su questo su questo tema e appunto è più importante appunto che venga deliberato da questo consiglio comunale un un intendimento ad agire a cercare di porre rimedio per quanto questa mozione potrà farlo all'urgenza di questa di questa piaga sociale quindi voteremo ovviamente in modo favorevole grazie consigliere Rullo prego consigliere Ravagni sì anche il nostro gruppo politico conferma il voto favorevole abbiamo sottoscritto volentieri il nuovo testo che è nato dalla fusione della mozione con un dispositivo diverso quindi siamo ben lieti di poter confermare il nostro voto favoribile che ci sarebbe stato in ogni caso su un tema che ci un tema sul quale c'eravamo già fatti portatori nella passata legislatura grazie grazie consigliere Ravagni allora se non c'è nessun altro do lettura del deliberato che è la parte che poi è stata inserita il consiglio comunale di Arco chiede al sindaco all'assessore competente di attivarsi per valutare la definizione di un accordo con l'associazione di mutuo aiuto AMA sul modello dell'accordo sottoscritto dal comune di Trento al fine di verificare se sia possibile la sottoscrizione di un'alleanza contro il gioco d'azzardo potologico che veda partecipi soggetti diversi comuni enti operatori economici e realtà sociali nell'approfondire la possibilità tramite gli uffici preposti del comune di Arco di adottare anche per gli esercizi commerciali che non hanno installato o rimuoveranno gli strumenti per il gioco d'azzardo slot machine il marchio gioco d'azzardo no grazie nel verificare la possibilità di ridurre alcune aliquote per gli esercenti che accetteranno la rimozione delle slot machine di pubblicizzare i locali gioco d'azzardo no grazie in modo da dare risalto sul notiziario comunale sul sito web metto i voti allora partiamo dai favorevoli contrari faccio la controprova contrari astenuti allora all'unanimità 21 passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno il primo punto prevede l'approvazione del verbale della seduta consigliare di data 20 ottobre 2014 favorevoli contrari astenuti unanimità 21 e punto 1 verbale del 20 ottobre 2014 approvazione al punto 2 abbiamo un'altra approvazione di verbali in questo caso si tratta del verbale della seduta consigliare di data 24 ottobre 2014 favorevoli contrari astenuti un astenuta 2 astenuti 2 astenuti 19 favorevoli e 2 passiamo allora al punto numero 3 riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dal pagamento di maggiorazione su indennità di espropriazione riferita al parcheggio di Caneve in esecuzione della sentenza della Corte Suprema di Castazione terza sezione civile numero 9981 2014 ai sensi dell'articolo 21,1 lettera D del DPRG del DPGR 28 5 1999 numero 4 barra L do la parola l'assessore Ricci prego grazie presidente il testo unico delle leggi regionali su ordinamento contabile finanziario dei comuni individua le procedure funzionali a riconoscimento di legittimità e per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive nonché decreti ingiuntivi transazioni giudiziari lodi arbitrali e relative spese legali su coperture di disavanzi di consorsi di aziende speciali e di istituzioni e qui mi fermo perché è la lettera che interessa il nostro deliberato in data 6 luglio 99 la giunta comunale aveva approvato un progetto esecutivo dei lavori inerenti alla riqualificazione e recupero della qualità urbana del centro storico di Arco in particolare il parcheggio di Caneve finanziato a sua volta la spesa con fondi di bilancio determinato le modalità di appalto dei lavori a base d'asta ed incaricato il sindaco di promuovere la procedura espropriativa l'allora ingegnere capo aveva attivato una procedura abbreviata così disciplinata dalla legge numero 6 del 93 per acquisire i detti terreni in particolare una superficie di 1881 metri quadrati di proprietà tavolari di signori Mascher Giovanni Battista per tre quarti e Mascher Carle per un quarto l'ingegnere capo aveva ridato la perizia di stima severata riferita alla pulizia di terreno come sopra individuata inoltre con deliberazione del 12 ottobre 99 la giunta comunale aveva approvato detta perizia di stima stabilendo dell'indenità di esplorazione pari a 260 milioni 989 mila e 750 lire un'indenità aggiuntiva di 52 milioni 197 750 un'indenità aggiuntiva per esercizio di attività agricola di 42 milioni 322 mila e 500 che è quella che interessa oltre a indenizzo per danni per un milione di lire sempre indenità totale pari a 356 milioni 509 mila lire pari appunto a euro 184 mila 121 53 euro quindi aveva disposto la liquidazione del pagamento agli espropriati risultanti dai prospetto legati alla medesima delibera a titolo di indennizzo subordinando l'emissione del mandato di pagamento alla presentazione delle dichiarazioni previste dalla legge provinciale in materia di espropriazioni impegnata la spesa derivante dal provvedimento sopra citato complessivamente per 356 milioni 509 mila lire in data 8 novembre del 99 sono stati emessi i mandati di pagamento a favore dei proprietari tavolari signori mascher giovan battista per un tre quarti mascher carla per un quarto assaldo dell'indennità di espropriazione per edificabili e dell'indennizzo dei danni previa presentazione della dichiarazione di rito a cure dei beneficiari per quanto concerne l'indennità aggiuntiva per la coltivazione del fondo pari appuro appunto a 21 1875 virgola 75 euro l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno non procedere alla liquidazione della stessa in quanto i requisiti per l'ottenimento della maggiorazione in questione sono stati dichiarati da due soggetti distinti infatti le due dichiarazioni pervenute appaiono in palese contrasto come si può desumere da una sintetica riproporazione delle stesse il signor Giovanni Battista appunto dichiarava che di aver diritto a sopra indicate realità e aver edibito l'attività agricola di aver esercitato praticamente l'attività agricola sulle medesime coltivandole abitualmente per lo stesso il signor Zanetti sempre con una dichiarazione del 28 ottobre 1999 aveva dichiarato di essere in rapporto agrario tipo colonia parziale di essere responsabile della conduzione e gestione del vigneto ubicato sul PF oggetto di esproprio di cui il signor Mascher Giovanni Battista e la signora Carla Mascher sono proprietari per questo motivo dopo aver inutilmente tentato di risolvere la delicata questione con scritti telefonate colloqui il sindaco a firma del sindaco e del capo ingegnere Luigi Campostrini si è trasmessa tutta la documentazione della procura della repubblica che per gli approfondimenti di competenza con particolare menzione alle dichiarazioni finalizzate all'ottonimento dell'indennità aggiuntiva per la coltivazione del fondo in questione in sede di approvazione del bilancio 2010 in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso ancorché per il tramite della un trict il signor Zanetti avesse più volte chiesto al comune il pagamento dell'indennità aggiuntiva è stato cancellato l'impegno relativo alla suddita indennità in data 5 agosto 2014 l'avvocato Guido Ferrari per conto del signor Zanetti Bruno ha inviato al comune di Arco copia della sentenza della corte suprema di Cassazione con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal signor Maschio Giovanni Battista avverso la sentenza della corte d'appello ed è stato confermata l'esistenza di quel rapporto di affitto agrario in capo al signor Zanetti già affermato dal tribunale di Rovereto prima e dalla corte di appello di Trento poi con la medesima lettera illegale rinnova la formale richiesta al comune di Arco di pagamento della somma di 21.857,75 euro aumentata degli interessi per ritardato pagamento e quantificati in euro 8.002,63 euro il signor Zanetti ha avuto più incontri con l'amministrazione comunale in merito alla debenza o meno degli interessi sulla somma a titoli di indennità aggiuntiva dopo l'ultimo degli incontri nell'ufficio legale del comune il signor Zanetti ha rinunciato espressamente e per iscritto agli interessi quantificati nella somma di 8.002 euro chiedendo esclusivamente quelli decorrenti dalla data della sentenza quindi dal primo di luglio del 2014 fino al 31 dicembre 2014 quantificati in euro 109,59 euro la scrivente di amministrazione si è pertanto attivata proponendo una variazione al capitolo 37-60 del bilancio di previsione 2014 con un aumento della somma corrispondente al debito di euro 21.857,75 euro oltre a 109,59 per interessi per un importo complessivo di 21.967,34 per quanto sopraesplicitato e precisato il consiglio comunale deve riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio sopravvidenziati disponendo per l'effetto la liquidazione delle sobe agli aventi diritto grazie grazie sessore Ricci prego qualcuno deve fare delle domande altrimenti metto ai voti prego consigliere del fabbro grazie presidente ma non riesco a capire come mai in sede di approvazione di bilancio 2010 è stata levato l'impegno di questa somma di 21.800 euro quando non c'era ancora una risposta definitiva della Cassazione non era meglio lasciarli impegnati fino a che nonostante so che cambiava poco però visto che non c'era una risposta non capisco perché è stata levata grazie grazie consigliere del fabbro prego sessore Ricci grazie presidente sì generalmente le somme rimangono in bilancio soprattutto si chiamano residui in virtù dei rapporti pregressi però 10 anni 11 anzi hanno lasciato un po' perplesso quindi abbiamo deciso di toglierli e sono trascorsi ulteriori 4 anni affinché la regge si pronunci quindi per noi non cambiava niente sostanzialmente perché tanto nel momento in cui veniva esecutiva non facevi altro che implementare il tuo bilancio quindi non ha nessun effetto insomma lo prevede la legge ed era assurdo tenerli lì perché potevano passare anche altri 10 anni ci sono sentenze ci sono persone che sono 40 anni davanti che attendono il giudizio della corte di cassazione quindi correvamo il rischio magari di superare magari anche questo record hanno sentenziato pertanto adesso mettiamo a posto le cose insomma grazie assessore altre domande do lettura della delibera quindi il consiglio comunale delibera di riconoscere ai sensi dell'articolo 21,1 lettera d del dpgr 28 5 1999 numero 4 barra l modificato dal dpr 1 febbraio 2005 la legittimità del debito fuori bilancio di euro 21.967 virgola 34 di cui euro 21.857 virgola 75 a titolo di indennità aggiuntiva per esercizio attività agricola su indennità di espropriazione riferita al parcheggio di canire e di cui euro 109 virgola 59 per interesse del primo luglio 2014 al 31 12 2014 come meglio precisato in premessa di imputare la spesa di euro 21.967 virgola 34 tra 4 al capitolo sotto elencato del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità 3 di liquidare e pagare per tutte le motivazioni esposte in narrativa a favore del signor Zanetti Bruno la somma di euro 21.967 virgola 34 a titolo di indennità aggiuntiva per esercizio attività agricola lettera C e articolo 20 legge provinciale 6 del 93 come di seguito di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi opposizione alla giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del Tulleroc approvato dal DPR regionale primo febbraio 2005 articolo 3 numero lettera 3 ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del DPR 24 novembre 1971 numero 1199 oppure in alternativa ricorso giurisdizionale avanti al targa di Trento ex articolo 29 del decreto legislativo 27 2010 numero 4 l'idea atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva è avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Tulleroc approvato dal DPR primo febbraio 2005 numero 3 barra L metto i voti favorevoli contrari astenuti 6 astenuti 15 favorevoli c'è bisogno dell'immediata si facciamo anche l'immediata esecutività favorevoli contrari astenuti allora va bene anche per l'immediata esecutività grazie siamo al punto 3 corpo dei vigili del fuoco volontari di arco approvazione variazione numero 2 al bilancio dell'esercizio finanziario 2014 prego numero io ho un numero 2 mi dice che è il numero 4 che è il numero 4 va bene non c'entra niente il numero no 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 capito perfetto si si ho capito prego il sessore lì ce la illustra lei grazie si presidente il bilancio di previsione del viso del fuoco è stato approvato il 20 gennaio 2014 con deliberazione del 7 luglio 2014 il consiglio comunale ha approvato la prima variazione del bilancio si rende ora necessario approvare la variazione numero 2 a bilancio di previsione 2014 deliberata dall'assemblea del corpo vigili del fuoco di arco in data 30 ottobre 2014 che prevede una maggiore entrata in conto corrente al capitolo 20 servizi di vigilanza ispezione e prevenzione incendi pari a 26 mila euro e una maggiore entrata in conto capitale assegnazione del comune pari a 2600 euro pertanto le spese così si riassumono in 20 mila euro per quanto riguarda il capitolo 280 compensi per servizi a pagamento a cui corrisponde per pareggiare le entrate 6 mila euro al capitolo 370 partecipazione ai corsi di istruzione e aggiornamento e una spesa capitale di 2600 euro a finanziamento del capitolo 405 pompe carrelli attrazzature di servizio a seguito di tali variazioni dell'avanzo di amministrazione risulta complessivamente applicato per euro 8.230 44 il totale della gestione e competenza pareggia per l'importo di 204 530 44 e il totale complessivo anche della gestione dei risivi pareggia per l'importo di 250 055 04 euro pertanto anche qui disposto di approvare appunto la variazione numero 2 al bilancio di previsione 2014 del corpo di vigili del fuoco volontari dettate elementi previsti nell'allegato B che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento di vendenziali che avverso il presidente della deliberazione ha messo a posizione della giunta municipale durante il periodo di pubblicazione ricorso straordinario del presidente della repubblica di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione nei sensi dell'articolo del testo unico delle regi regionali grazie grazie assessore qualcuno prego consigliere del fabbro grazie presidente sì generalmente noi abbiamo sempre espresso sia sui bilanci che eventuali variazioni in parere favorevole anche per il ruolo che ricoprono queste persone alle quali va sempre un doveroso ringraziamento però prima della votazione volevo avere un po' più di precisazione in merito ai 20.000 euro come variazione come destinazione dove la voce riporta compensi per servizi a pagamento di questi 20.000 euro insomma capire come e perché sono stati destinati grazie grazie prego il dettaglio noi non lo abbiamo evidentemente perché è una cosa che gestiscono loro loro praticamente attraverso questi servizi di bilanci ispezione e prevenzione di incendi riescono a pagare anche i compensi a pagamento a chi gli esegue questi interventi soprattutto stiamo parlando anche di servizi oggettivi su determinati interventi quindi non so la maggior la maggior cifra credo che sia per la vigilanza alla piazzola dell'elicottero quindi per la cosa antincendio della 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 piattaforma sopra l'ospedale che diciamo che è la cosa rilevante loro ricevono un compenso dalla penso dalla protezione civile e quindi chi fa i turni eccetera eccetera riceve un'indenità e dopo altri servizi che fanno logicamente sul territorio però ripeto non è che soltanto in sede di bilancio definitivo saranno in grado magari di dare dettaglio a chi riceve queste cose ma noi non siamo tenuti a entrare credo nel merito di ciò che fanno i volontari quindi noi riusciamo ad approvare le loro variazioni però qui non ho il dettaglio di che sono andati a finire questi compensi quindi grazie Assessore Ricci ecco io volevo anche io aggiungermi al pensiero diciamo del del Consiglio del Fabbro che di solito viene fatto in sede di approvazione del bilancio e sia del nostro comune che del bilancio di vigile del fuoco stiamo parlando del bilancio di previsione e tutti gli anni noi cioè rivolgiamo questo ringraziamento dovuto a questo corpo che è un corpo volontario anche se diciamo alcuni servizi vengono retribuiti ma sono più rimborsi spese quindi non sono proprio delle vere proprie retribuzioni credo che gli interventi siano migliaia e quindi se li rapportiamo agli esigui valori che vengono messi in bilancio evidentemente parliamo di rimborsi spese probabilmente la benzina probabilmente le assenze da lavoro sono questi credo che i compensi maggiori che vengono elargiti agli componenti volontari quindi a loro io direi di esprimere un grazie speriamo che insomma questo periodo sia sia un periodo tranquillo perché si sta avvicinando la diciamo la data dei botti e speriamo che non abbiano da intervenire insomma grazie grazie assessore condivisibile il suo ringraziamento metto al voto la delibera favorevoli contrari astenuti 4 astenuti 17 favoribili possiamo passare al punto numero 5 approvazione modifica regolamento di contabilità del comune di arco titolo sesto revisione economico finanziaria prego assessore ricci grazie presidente regolamento di contabilità del comune di arco è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 6 nel 2001 successivamente sono intervenute delle deliberazioni comunali e sono state fatte delle modifiche in particolare quella del 2011 aveva previsto la riduzione da 3 a 2 componenti il collegio dei revisioni dei conti tale modifica era stata possibile in applicazione dell'articolo 113 successivamente in data 5 del 2 del 2013 è stato abrogato il citato articolo e quindi si è stati costretti a rimodificare il nostro regolamento portando il numero dei membri del collegio dei revisioni dei conti a 3 membri successivamente la legge regionale in data 9 12 2014 ha precisato che in materia di organo di revisione economica finanziaria degli enti locali per i comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e 30.000 abitanti l'organo di revisione sia composto da due componenti di cui uno disegnato dalle minoranze consigliari va detto che l'ambitazione comunale di recente anche sulle citazioni di questo consiglio aveva chiesto alla regione una modifica alle disposizioni normative in materia di revisione economica finanziaria degli enti locali nel senso di rintrodurre la facoltà per i comuni con una dimensione demografica come quella del comune di Arco di poter eleggere un collegio di revisione composto da due soli membri ora con la modificata normativa vi è la possibilità tramite la modifica del regolamento di contabilità di prevedere un collegio di revisione composto da due membri invece che tre se tenendo opportuno avvalersi di tale facoltà per le stesse motivazioni soltate adottate nella citata richiesta inviata recentemente regione il fatto che il numero di due componenti del collegio è pure adeguato per un comune le cui dimensioni demografiche non di molto superiore ai 15.000 abitanti il metto sotto al quale la stessa legge rosa prevede un solo membro per ultimo ho anche sottolineato il fatto che eleggere un collegio di tre membri al posto delle attuali due comporterebbe un incremento di costi a carico del bilancio comunale elemento questo in antitesi con quanto sta avvenendo quotidianamente in termini di spendi review le modifiche proposte riportate nel testo proposto dall'approvazione in formato revisionale sul testo attualmente in vigore concernono il titolo sesto revisione economica finanziaria nello specifico l'articolo 72 con la previsione che l'organo di revisione sia composto da due membri e il ricepimento del disposto normativo che stabilisce che uno dei due componenti venga disegnato dalle minoranze consigliali l'articolo 75 con la previsione che salvo diversa decisione da parte dell'organo di revisione i pareri di competenze sono sottoscritti dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento dall'atto revisore quindi deliberiamo di approvare modifica il regolamento di contabilità comunale così come è riportato nel testo in modalità e revisione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante sostanziale di approvare a seguito delle modifiche di cui al punto 1 il testo del regolamento di contabilità comunale nella sua nuova formulazione di dare atto che la presente deliberazione verrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione di dare atto che il regolamento entrerà in vigore a decorare la data di esecutiva di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni al fine di favorire la più ampia e agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 28 di Venezia che avverso la presente liberazione ha messo posizione giunta municipale al ricorso straordinario presente della Repubblica grazie grazie assessore Ricci qualcuno prego consigliere Rullo grazie presidente vorrei spiegare la nostra astensione su questo punto pur essendo ovviamente favorevoli sulla riduzione da 3 a 2 del numero dei revisori tra l'altro caldeggiata anche dal nostro gruppo all'interno dell'HP Gruppo siamo sostanzialmente in linea con quanto portato avanti dal gruppo regionale dal gruppo consigliare in regione in consiglio provinciale del movimento 5 stelle attraverso anche quell'ordine del giorno il numero 5 che è stato votato a larga maggioranza in tema di trasparenza e semplificazione con 41 voti favorevoli 3 contrari e 3 astenuti e che prevede il sorteggio dei revisori dei conti per i comuni della provincia di Trento un atto che impegnerà la giunta a prevedere per gli enti locali un sistema alternativo di nomina dei revisori ossia se richiesto dal 40% dei consiglieri la scelta mediante stazione da un elenco di soggetti abilitati e che si siano resi disponibili quindi per noi la votazione da parte degli schieramenti politici e quindi vengo al punto che appunto si chiede di inserire nel regolamento uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consigliari non è garanzia di professionalità e di indipendenza di un ruolo di controllore quale deve essere il revisore dei conti quindi in linea con questi principi promossi nelle varie sedi istituzionali ci asteremo della votazione del regolamento e poi anche successivamente interveremo nella nomine del punto successivo grazie grazie consigliere Rullo altri vogliono aggiungere altrimenti consigliere del fabbro prego sì grazie presidente ma per dichiarazione di voto noi saremo favorevoli come già espresso anche in commissione regolamenti perché appunto era doveroso questo passo indietro da tre a due membri ma nello stesso tempo condividiamo appieno e ci siamo già confrontati fuori a questa sede il pensiero portato avanti dal consigliere Rullo perché riteniamo che questi ruoli non debbano essere legati alla politica ma sono dei ruoli prettamente tecnici quindi anche noi auspichiamo di portare avanti un ragionamento prettamente di sorteggio e non di legame politico grazie grazie consigliere del fabbro prego sindaco grazie presidente dal punto di vista come maggioranza noi siamo soddisfatti del risultato che siamo riusciti ad ottenere anche grazie a quella serata in cui abbiamo trattato di comune unico e delle tematiche legate proprio al comune unico qui ringrazio anche il segretario comunale che attraverso l'assessore Nogler si è arrivati a questa modifica rispetto ad essere qua questa sera siamo stati anche un po' di corsa proprio per evitare di fare una nomina tre e quindi riuscire ad essere due poi sulle tematiche che come forze di posizione avete sollevato più che condivisibili proprio qua sta la differenza tra chi amministra e chi lo amministra voi potete dire beh noi ci asteniamo noi questa sera dobbiamo nominare i revisori dei conti quindi la grande differenza tra chi ha la responsabilità amministrativa e chi tra virgolette ha una responsabilità diversa più ruolo politico quindi senza veramente voler marcare chissà quale linea polemica ma veramente costruttiva la grande differenza è questa chi amministra deve comunque dare delle risposte concrete e reali e chi amministra può teorizzare all'infinito insomma e quindi questo è un dato di fatto grazie grazie sindaco mi ero fatto un appunto per ribadire lo stesso concetto è molto importante che siamo passati da tre revisori a due e questa azione è partita proprio dal nostro consiglio comunale comunque qualcun altro deve aggiungere altre considerazioni altrimenti metto ai voti stiamo votando la modifica del regolamento voteremo dopo per i i revisori quindi favorevoli contrari astenuti due astenuti 19 19 favorevoli c'è bisogno della votazione per renderla immediatamente esecutiva favorevoli contrari scusate contrari e astenuti sempre 19 e due astenuti passiamo ora alla votazione del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2015 2017 e attendo proposte da parte della maggioranza e della minoranza ah scusa sono troppo veloce prego grazie presidente si è opportuno leggere perché ci sono delle precisazioni in relazione al compenso e quelle cose lì e cercherò di essere breve il nostro collegio era composto dal dottor dell'addio Carlo e dottor Giovanni Paolo gli stessi erano stati eletti in data 6 dicembre 2011 essi sono in scadenza e pertanto dobbiamo proporre dei nominativi per la nomina del collegio allora premetto che era consuetudine rinnovare il secondo mandato io da quando sono assessore sono 9 anni che faccio l'assessore e sfiduciare un come si dice un componente del collegio sindacale mi risulta molto difficile anche perché contrariamente a quanto può sembrare e per quanto può dire il consigliere Rullo io dei revisori guardo la professionalità e non certo l'appartenenza politica e soprattutto la capacità noi ci possiamo fregiare anche di nomi illustri nel campo nazionale se non internazionale del di uno dei nostri membri del collegio pertanto credo non so nemmeno di che appartenenza politica sia ma comunque amava bene così mi piace mi piace leggerlo per le sue capacità non dicendo appunto per la tessera del partito comunque sono opinioni allora il regolamento appunto prevede la nomina i revisioni possano essere scelti tra iscritti a livello regionale sia nel registro dei revisori legali oppure negli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili l'istituzione del del collegio appunto è obbligatoria e pertanto successivamente appunto con l'ultima emanazione di legge ha previsto per i comuni come il nostro la nomina di due membri del collegio alla luce di quanto previsto il regolamento di contabilità è stato ulteriore modificato da parte del consiglio con la delibera poc'anzi le disposizioni normative sopra citate e quanto disposto dal regolamento di contabilità stabiliscono quindi che l'organo di revisione è composto da due membri iscritti all'abrio dei revisori contabili o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui uno disegnato dalle minoranze l'elezione effettuata dal consiglio comunale la nomina del presidente del collegio tra i revisori precedentemente eletti è effettuata dal consiglio comunale con apposita votazione quindi dopo dovremo nominare anche il presidente del collegio i componenti del collegio in carica possono essere rieletti consecutivamente una sola vota proprio per la rotazione consigliere rullo proprio per non fossilizzare gli appartenenti politici alla sede dei revisori il compenso del revisore è stabilito dalle deliberazioni di nomina fermostando che il limite massimo attualmente fissato della regione per i comuni di classe demografica analogo a quello dei comuni di Arco di 8.000 euro più IVA e più contributi previdenziali il compenso del presidente del collegio è maggiorato del 10% ai revisori di sedenti fuori al comune oltre al compenso spetta il rimborso delle spese e più viaggi effettivamente sostenuti ai revisori sono applicate le norme di incompatibilità e inelegibilità previste dal testo unico del regionale su ordinamento contabile e finanziario ciascun revisore secondo a quanto previsto non può avere più di 8 incariche e tale limite deve essere dichiarato con apposita autocertificazione ai sensi dell'articolo 73 del regolamento di contabilità nel caso in cui il consiglio non provvede alla nomina entro la scadenza triennale il collegio incarico ha prorogato per non più di 45 giorni decorante della scadenza di incarico a seguito di pubblico avviso sono pervenute 8 proposte 7 entro la scadenza del 27 11 2014 e una successivamente per assumere appunto l'incarico e revisione per il prossimo triennio per tutte quante è stato verificato sulla base di dedicazione dei prodotti l'iscrizione all'abio del revisione contabile o all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili sicuramente che come previsto nell'articolo 72 dell'regolamento di contabilità il consiglio comunale può in ogni caso provvedere all'elezione dei revisori indipendentemente dalla candidatura presentata salvo la verifica e fine dell'assunzione dell'incarico del possesso dei requisiti previsti dalla normativa si sottolinea che gli attuali revisori in scadenza hanno ricoperto per un solo mandato esecutivo le funzioni dei revisori del comune di arco e pertanto ai sensi del comma 103 articoli sono rieligibili l'assunzione dell'incarico del divisore una volta eletta è comunque subordinata alla presentazione dell'autocertificazione con le modalità previste dall'anormativa vigente nel rispetto dei limiti degli incarichi per quanto concerne il compenso si ritiene di mantenere quello attuale pari a 5500 euro oltre a IVA e le ordine previdenziali è la maggiorazione del 10% precedente quindi contro gli 8000 euro che è il tetto massimo per un comune come quello di arco noi avevamo stabilito tre anni fa i 5500 euro e rimangono tali proponiamo analogo compenso pertanto il dispositivo dell'Irbira di nominare i componenti del collegio revisore dei conti del comune di arco per il prossimo treno i signori e qui ci sono la proposta per quanto riguarda il gruppo di maggioranza e dopo attendiamo le proposte per quanto riguarda il gruppo di minoranza grazie grazie assessore Ricci qualcuno voleva intervenire altrimenti con l'aiuto del segretario mi sono fatto illustrare come procederemo quindi eleggeremo i revisori con scrutinio segreto poi fra i due revisori sempre con scrutinio segreto eleggeremo il presidente e poi voteremo una terza volta ma per voto palese per il compenso quindi ci saranno tre votazioni successive mi manca una proposta per la minoranza la maggioranza no prego consigliere ma credo che le proposte manchino entrambe sia quella della maggioranza quella della minoranza e la maggioranza propone la riconferma del dottor Carlo dell'addio consigliere Todeschi prego per quanto riguarda noi proponiamo il nome del dottore Sciacretti Veronica grazie ha presentato ognuno vota voto limitato ognuno prenderà allora prego consigliere Rullo sì grazie in merito allora in percoerenza con quanto annunciato prima proprio perché riteniamo senza tornare sul punto troppo per le lunghe ma riteniamo che l'unico criterio reale per la scelta di un revisore dei conti debba essere l'iscrizione all'albo di per sé elemento di professionalità e non vi sia da avere fiducia in un controllore tantomeno nel nominarlo per questa ragione noi non ritireremo la scheda e non parteciperemo alla votazione grazie grazie consigliere Rullo prendiamo atto consigliere Del Fabro prego grazie presidente anche noi non ritiriamo la scheda grazie prego gli scrutatori di distribuire le schede voto limitato la maggioranza vota il rappresentante proposto dalla maggioranza e la minoranza vota chi è stato proposto dalla minoranza grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti allora ripeto per la registrazione 17 voti totali 15 voti per Della Dio Carlo 2 voti per Creti Veronica e allora all'interno di questi due nominativi ora procederemo alla elezione del presidente quindi si voterà un solo nome prego il scrutatore di ridistribuire la scheda non ci sono più schede allora non ci sono più schede grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 15 dell'addio. 2 accreti. Allora, il presidente sarà Carlo dell'addio. Ora possiamo votare la delibera, il compenso anno lordo, 5.500 euro per ciascuno revisore, oltre a maggiorazione del 10% da corrispondere al presidente del collegio. Favorevoli? Contrari, astenuti, 4 astenuti, si, c'è bisogno di un'altra votazione per l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari, astenuti, 4 astenuti, 17 favorevoli. Passiamo al punto numero 7, regolamento della biblioteca civica a Bruno Emmert, esame ed approvazione. Assessore Miori, prego. Grazie presidente, cari colleghi consiglieri, l'occasione di questa sera in cui abbiamo a revisionare, a rinnovare due regolamenti, quello della biblioteca e dell'archivio storico, nonché a istituire la commissione cultura che va a sostituire in realtà la vecchia commissione biblioteca che era prevista appunto da questi regolamenti, in realtà, come dire, sono tre punti, sono tre votazioni, ma sono tutte quante legate a un mondo, quello della regolamentazione dell'ambito della cultura, per cui ho voluto cogliere l'occasione per invitare in consiglio il direttore della biblioteca e il funzionario responsabile della cultura del comune di Arco, che è Alessandro De Martín. Il dottor De Martín ha chiesto di proporci una presentazione in cui ci illustri più in generale quello che è l'andamento e il funzionamento della biblioteca e anche l'andamento, insomma, in termini sia di quello che è il nostro impegno come comune finanziario, sia in termini di utenza e quindi di servizio che viene fornito. Qual è il senso di questa cosa? Nell'andare a provare il regolamento di biblioteca, che è il punto tecnicamente all'ordine del giorno, in realtà viene dato sostanzialmente con il nuovo regolamento di biblioteca, mandato alla giunta comunale di approvare altri documenti che poi delineano effettivamente il funzionamento della biblioteca, quindi la carta delle collezioni, la carta dei servizi di cui poi appunto il dottor De Martín ci parlerà, che non verranno quindi ad essere discussi dal consiglio, perché sono di competenza strettamente amministrativa quindi della giunta. Tuttavia, questi documenti, insieme al regolamento, descrivono come funziona la biblioteca e ho ritenuto importante, condiviso naturalmente dal sindaco e da tutta la giunta, nonché dai capigruppo quando ne abbiamo parlato, che di questo si potesse dare una visione più globale al consiglio che comunque regge la responsabilità amministrativa del comune. Per questo ho appunto chiesto questa cortesia al dottor De Martín, che quindi invito a farci la sua presentazione. Do il benvenuto al dirigente, prego. Ha bisogno della proiezione? Disponiamo allora l'aula. C'è bisogno di abbassare il telo per la proiezione? Mi sposto. Grazie. 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 Prendi immediatamente il segnale. Chiedo scusa per il problema tecnico. Il tutto funzionava. Grazie. Buonasera. Ringrazio innanzitutto il Consiglio di aver dedicato tempo al servizio biblioteca, oltre al tempo mero per l'approvazione del regolamento. E ringrazio l'assessore Miori e la Giunta di aver creato questa opportunità. In cambio cercherò di non rubarvi troppo tempo, di essere efficace nella spiegazione e nella presentazione, e mi scuso se vengo magari a dire cose che molti di voi sanno già, perché hanno visto la biblioteca crescere, ne hanno costituito, l'hanno fatta loro stesse crescere, diventare grande, partecipando magari al Consiglio di biblioteca, appunto, che fino ad oggi esisteva, o semplicemente, ma non semplicemente, come utenti. Ecco, dico crescere e nascere perché la biblioteca di Arco, benché sia importante nel sistema bibliotecario trentino, e sia una biblioteca rilevante con i suoi più di 100.000 documenti, è una biblioteca nata di recente, a poco più di 50 anni. Eppure è nata grande grazie al contributo di Bruno Emmert, che sicuramente tutti voi conoscete, con cittadino di Arco, esimio, bibliofilo e bibliografo, che aveva creato in casa sua, nella via di Sant'Anna, una biblioteca privata che era conosciuta da tutta Europa. Scambiava lettere con buona parte dell'Europa miteloeuropea e anche oltre. Era stata stimata di una consistenza di 100.000 pezzi, tra documenti di cui molti adesso sono passati al nostro archivio storico, altri non sono stati ritenuti così importanti da inserire in una biblioteca, ma grazie a lui la biblioteca di Arco, nel 1961, nata per volontà del Consiglio di Arco, proprio del Consiglio di cui oggi celebriamo l'ennesima attività, ha creato una biblioteca di 50.000 documenti. Assieme a questa biblioteca storica, durante gli anni è cresciuta una biblioteca di pubblica lettura, che oggi equivale, o addirittura supera, il contenuto. Quindi la biblioteca che oggi abbiamo ad Arco, è una biblioteca riconosciuta anche dalla nuova legge, come una biblioteca di pubblica lettura, con patrimonio di particolare rilievo. è composta 50% da un fondo antico Emmert, dedicato al fondatore, e da un 50% dedicato alla cittadinanza, alle attività proprie. Alcuni numeri. Il patrimonio attualmente consta, al 24 dicembre di quest'anno, di 101.570 documenti, di cui 40.548 fanno ufficialmente parte del fondo antico. Fondo antico che presenta documenti che vanno dal 500 fino agli anni 50-60, che corrispondono al decesso di Emmert, che fino all'ultimo conservò e continuò a far crescere la propria biblioteca. dai dati 2013 abbiamo avuto 29.770 presenze annue, 25.876 prestiti, e nel 2013, sempre in attesa di chiudere il 2014, abbiamo avuto una spesa di 27.000 euro per l'acquisto di materiale documentario, e 40.037 euro vengono spesi per l'attività di promozione e attività varia della biblioteca. L'orario è stato, come voi sapete, modificato nel 2010, ed è stato portato a 31 ore e mezzo, sei giorni alla settimana, da lunedì al sabato, con una peculiarità, almeno nel nostro territorio, dell'orario continuato, per favorire proprio sia gli studiosi che vengono da fuori comune o anche fuori provincia per studiare i documenti del nostro fondo, sia per gli studenti che trovano comodo poter avere una giornata in cui possono tranquillamente organizzarsi su tutto l'arco, dalle 9 alle 18.30. è una biblioteca non statica ma dinamica che cerca di essere passo dei tempi e che in questi anni ha avuto anche una crescita, quindi vuol dire che risponde alle necessità della propria utenza. Abbiamo avuto una crescita dal 2010 al 2014 del 25% delle presenze e del 21% dei prestiti. Ovviamente una biblioteca che non si occupa solo di prestare libri, ma oggi la biblioteca è molto altro. Le biblioteche sono state definite da una studiosa italiana le nuove piazze del sapere, semplicemente le nuove piazze dove una volta c'era la Gorà, luogo di cultura, luogo della politica, dopo ci sono state le chiese, le parrocchie, gli oratori. Oggi spesso e volentieri la biblioteca diventa un luogo che viene a costituire un nuovo posto pubblico, un nuovo salotto, una casa dei cittadini che non si accontentano del centro commerciale o non si ritrovano più nella chiesa che comunque non ha più il valore ecumenico che aveva solo fino a pochi anni fa. È un luogo che presenta possibilità di informarsi attraverso i quotidiani, i periodici, non abbiamo una quarantina di testate, permette di studiare, ovviamente in studio, permette di consultare internet, al giorno d'oggi è importantissimo, molti servizi, anche pubblici, oggi si comandano, si richiedono tramite internet. in America, che anche nel mondo delle biblioteche è un po' l'avanguardia, una delle ragioni per cui si sono diffose e sono cresciute le biblioteche è proprio la possibilità di dare il servizio internet a chi, per ragioni economiche, non se lo può più permettere. È una biblioteca che ha allargato i suoi orizzonti alla frontiera digitale, si pensava che con il libro digitale, il libro di carta, e quindi le biblioteche e casa del libro di carta per eccellenza venissero a morire. Oggi esiste una biblioteca digitale chiamata biblioteca library online, media library online. Noi abbiamo la soddisfazione e un po' l'orgoglio di essere stati i primi assieme alle biblioteche dell'Alto Garda di proporle in Trentino. Oggi è diffusa tutte le biblioteche, buona parte le biblioteche del Trentino hanno aderito creando un sistema molto ricco, molto proficuo che permette ai lettori delle biblioteche di trovare più di 10.000 ebook commerciali gratuiti attraverso questo portale oppure di accedere gratuitamente alle principali testate, alcune delle principali testate italiane e locali nonché a se non sbaglio più di 3.000 testate da tutto il mondo. Quindi è chiaro la possibilità sia per chi studia lingue ma anche per chi non viene dal nostro paese e vuole saperle le notizie dei paesi magari molto lontani di trovare una risposta. Ecco, mi piace ricordare che il media library online è stato presentato e fatto conoscere in Trentino dal consiglio comunale di Arco è stata una proposta è nata da un'interrogazione di una vostra consigliera l'attenzione su questo nuovo servizio che era appena nato in Italia che è stata poi portata avanti con forza dall'allora assessore Floriani che oggi siede in consiglio come consigliere e dopodiché si è espansa a macchia d'olio in Italia e in Trentino la biblioteca come voi sapete organizza delle rassegne importanti culturali di benessere sulla donna la pace ma anche sulla filosofia e la poesia ed è molto attenta al mondo della scuola con i percorsi didattici ecco avevo accennato a biblioteca digitale attiva 2011 attualmente ci sono più di 100.000 contenuti che i nostri utenti gli utenti e biblioteche trentine perché appunto adesso facciamo parte del portale provinciale possono accedere 10.000 e-books commerciali ovvero quelli che si trovano l'equivalente dei libri che trovate in libreria ovviamente molti di più di quelli non coperti a diritto d'autore 2100 rivisti da tutto il mondo ecco ad arco solo ad arco abbiamo 600 cittadini iscritti che sono circa la metà di quelli dell'altogarda degli iscritti ai media library dell'altogarda la novità di quest'anno che voglio ricordare è la possibilità di accedere ai libri comprati da biblioteche nel resto d'italia che ha allargato ulteriormente la possibilità ai lettori agli utenti di leggere anche attraverso tablet i reader scegli libro è un po' il percorso didattico più importante a cui è la biblioteca di arco partecipa in quanto è un progetto nato dalle biblioteche provinciali di trentine nella prima edizione eravamo 22 oggi siamo 45 coinvolge 4000 ragazzi in tutto il trentino che si sfidano si sfidano che sono invitati a leggere 5 libri scelti dai bibliotecari e commentarli attraverso un sito ad arco 16 classi hanno aderito a questo progetto quindi abbiamo più di 300 ragazzi coinvolti che parteciperanno per tutto l'anno all'attività e l'8 il 7 o l'8 maggio andranno a Pallarotari di Mezzocorona per una festa in cui verranno premiato l'autore del libro che allora ha ricevuto più voti ma saranno premiati anche i ragazzi che hanno fatto i commenti più interessanti biblioteca digitale questo l'avevano detto ecco poi ci sono attività consolidate che probabilmente conoscete settimanalmente la nostra conversazione in lingua straniera in inglese e tedesco piacere dell'incontro che è il gruppo di lettura da quest'anno uno dei gruppi di lettura ha un carattere filosofico ovvero vengono letti e commentati testi di filosofia concorso letterario storie di donna che ormai è arrivato alla decima edizione il mangio dei libri cenacoli filosofici laboratorio di poesia dedicato alla donna biblioteca per la pace storia merende story time e biblioteca del benessere che quest'anno compie il decimo anno ecco la biblioteca del benessere è una rassegna di incontri dedicati alla medicina alternativa al rapporto anima psiche corpo che hanno fatto conoscere la biblioteca di arco oltre i confini comunali e provinciali la biblioteca cresce nel 2010 è stato proposto l'orario su sei giorni nel 2012 il sito della biblioteca quindi la newsletter che oggi conta 900 contatti quest'anno è stata approvata a settembre la carta delle collezioni e entro dicembre speriamo il nuovo regolamento per il 2015 l'obiettivo sarà la carta dei servizi questo perché è cambiata la normativa provinciale da quando è stata introdotta la legge 15 del 2007 sono cambiati i criteri con cui le biblioteche possono partecipare al sistema bibliotecario trentino tra questi è prescritta l'esistenza di una carta delle collezioni e una carta dei servizi da qui è stato necessario è stato conseguente anche cambiare il regolamento il regolamento attuale è stato approvato la prima volta negli anni 80 anzi nel 78 poi rivisto negli anni 80 presentava appunto formule come quello del consiglio di biblioteca che non aveva più ragione di essere da quando c'è la distinzione tra la componente di indirizzo e di controllo politico rispetto agli aspetti gestionali e quindi è stato quindi scelto di fare un regolamento che ponesse l'attenzione sulla parte dei principi sulle finalità cui si propone la biblioteca e che lasciasse per la parte gestionale strumenti più agili più adatti quale è la carta delle collezioni che stabilisce viene a stabilisce le modalità e le finalità della crescita delle raccolte della biblioteca e la carta dei servizi che gestisce i rapporti con gli utenti quindi poi il passaggio necessario da un consiglio di biblioteca a una commissione cultura che ampli anche le competenze della commissione che non guarda solo un ambito importante ma ristretto come quello della biblioteca ma affronti la cultura in ampi nel suo genere più ampio sia di attività sia per l'aspetto museale ecco la carta dei servizi sarà la sfida del 2015 è uno strumento fondamentale previsto dal regolamento che regola i rapporti fra servizio e utente stabilendo una sorta di patto fra i cittadini e l'amministrazione in cui il servizio dichiara le prestazioni e si impegna ad assicurare il livello di qualità e le modalità di fruizione questa sarà una sfida che la biblioteca e l'assessorato assumerà assieme alla commissione cultura che sarà chiamata ad intervenire e a dire la sua su questo che diventerà un po' il documento fondamentale di rapporto fra l'utente e la biblioteca ecco è diverso dal regolamento perché non stabilisce delle regole precise a cui il fruitore deve adeguarsi ma nato da una consultazione che ci sarà da un confronto da una customer satisfaction sul cittadino per capire le reali esigenze stabilirà i doveri dell'amministrazione nei confronti del cittadino e i doveri del cittadino stabilendo un patto di partecipazione di reciproca appoggio e sostegno stabilendo anche quali qualità quali standard di qualità dovrà rispettare la biblioteca per essere degna dell'attenzione del cittadino dopodiché prossimo anno ci sarà un'altra bella notizia aprirà la nuova sala delle arti ecco questa qui è una news che vi comunichiamo in accordo con l'assessore il 16 gennaio 2015 ci sarà l'inaugurazione ufficiale a cui ha invitato il consiglio comunale oltre alla cittadinanza ed è il lavoro fa parte di un lavoro durato più di un anno di trasformazione di quello che era il vecchio magazzino quindi una parte nascosta riservata solo agli addetti ai lavori in una sala che sarà aperta al pubblico che contiene i libri delle arti del Trentino ma che all'occorrenza è stata studiata in maniera flessibile che si possa trasformare in una piccola sala conferenze per piccole presentazioni di libri e per i lavori per i laboratori per i lavori con le classi c'è la possibilità anche di proiettare di fare proiezioni e tutto è molto è stato studiato a posto ma è tale che i tavoli nel giro di dieci minuti ho fatto oggi la prova per fare la foto spariscono e compaiono le sedie e contrario con l'altra novità importante che volevo comunicare questa è proprio una news è la la decisione di finanziare il nuovo sistema di gestione dei prestiti da parte del BIM ovvero il BIM aveva era già da più di un anno che pensava di finanziare le biblioteche del suo territorio con qualcosa di molto innovativo che gli permettesse di fare un passo in avanti questo è il nuovo sistema di gestione dei documenti RFID un sistema diffuso in Europa che si sta diffondendo oggi in Italia e che sarà la prossima frontiera il nuovo modo di gestire le biblioteche che il BIM il 24 dicembre ha comunicato che finanzierà per l'80% del suo valore ecco è un servizio che creerà di fatto non solo una maggiore efficacia efficienza della struttura biblioteca permettendo prestiti molto più veloci permettendo un inventario veloce attraverso una penna una pistola la chiamano che con un passaggio rileva immediatamente la presenza o no dei libri e i fuori posto ma permetterà anche ai cittadini l'autoprestito la possibilità quindi di prendere e restituire i libri a scaffale aperto senza passare necessariamente dal bibliotecario quindi riducendo le code tutelando maggiormente la privacy ma permetterà anche la possibilità di nuovi servizi come per esempio l'applicazione di un doppio livello di servizio uno con i bibliotecari che quindi la possibilità di avere reference di fare ricerche bibliografiche ma una anche di utilizzo delle sale della biblioteca di prestito dei libri senza necessità che ci sia un bibliotecario formato grazie a questo sistema perché l'RFID oltre a permettere l'RFID si tratta di un sistema radio che sostituirà l'etichetta barre che permette di identificare immediatamente il libro e quindi di collogarlo alla tessera o meno ma funziona anche come sistema antitaccheggio quindi per assurdo ma neanche troppo in alcune ore sarà possibile prendere i libri in prestito anche senza la presenza fisica del bibliotecario che inserisca o restituirli il BIM ha dato due anni di tempo per realizzare questo progetto era in realtà un progetto di cui si parlava da tempo e quindi già nel bilancio 2014 erano stati stanziati i previsti dei soldi ora si potrà realizzare nei tempi nella modalità che sceglierà l'amministrazione ecco grazie al tempo dedicato e buon anno dalla vostra biblioteca prego grazie grazie al dottor De Martin per appunto averci illustrato non soltanto il funzionamento della biblioteca nel suo insieme qualche veramente molto sintetico dato statistico ma anche per aver anticipato un paio di questioni e di elementi interessanti il primo riguarda appunto questo parto in ordine in disordine il fatto che appunto nei giorni scorsi in realtà si tratta di nemmeno dieci giorni fa il BIM ha appunto sbloccato questi fondi e deciso di dare effettivamente il via a un progetto che doveva in realtà partire già nel corso 2014 per cui a bilancio 2014 del comune di Arco era previsto di acquisire questi soldi dal BIM e di dare avvio a questo progetto diciamo siamo sul photo finish dell'anno ma la possibilità ora c'è grazie a questo sblocco di dare quindi attuazione a qualcosa che è contenuto nel bilancio 2014 quindi non è di per sé una novità il fatto che si faccia le refeed che peraltro è anche un'occasione di uniformare tutti i sistemi delle biblioteche di tutto appunto l'area che ricade sotto il nostro BIM ma probabilmente anche poi diventerà il sistema standard di tutta la provincia è anche comunque l'occasione di dare realizzazione a qualcosa che insomma era una progettualità che sta in alcuni anni insomma anche nel passato il secondo elemento invece che sono particolarmente lieto insomma di annunciarvi e quindi per cui anche siete tutti quanti caldamente invitati a partecipare è il momento di inaugurazione della sala la cosiddetta sala delle arti che ormai è pronta è appunto questo deposito che è stato adattato l'occasione vuole essere anche quella per dedicare un momento all'inaugurazione sì di una sala ma in particolar modo al consiglio comunale e agli amministratori il desiderio era quello di poter fare fare una visita come dire riservata ma speciale allo stesso fondo antico come appunto il dottor De Martin ci ha enunciato la biblioteca di Arco ha quasi per metà è fatta da un fondo antico che non è accessibile direttamente agli utenti gli utenti chiedono del materiale questo materiale viene preso dagli operatori della biblioteca perché evidentemente la delicatezza e la particolarità del fondo non permettono che sia di diretto accesso da parte degli utenti il fatto di poterlo conoscere in prima persona è una cosa credo importante per tutti coloro che siedono qua dentro e quindi che si occupano di amministrare il comune detto questo e tutto il resto degli elementi li ha già ben enunciati il dottor De Martin quindi io passerei anzi lascio magari se c'è qualche commento altrimenti passerei effettivamente poi al regolamento di biblioteca e ai seguenti punti qualcuno voleva chiedere qualcosa consigliere Ravagni prego sì no è una semplice considerazione innanzitutto grazie cioè il regolamento avevamo anche avuto modo di vederlo in commissione regolamenti avevamo già espresso il nostro pre favorevole che confermiamo volevo ringraziare la direttore della puntuale e precisa spiegazione peraltro anche molto molto interessante e gradevole io volevo semplicemente fare e mi sia concesso un piccolissimo fuori tema su questo discorso si diceva che tutto quanto nasceva dall'importante donazione fatta dal signor Bruno Emmert ricordo che un paio di anni fa in quest'aula adesso non chiedetemi esattamente chi fu a porre il problema o in che modo ma ricordo la risposta della loro sindaco Mattei che ci prometteva che ci sarebbe stato un impegno in tal senso che mi pare non esserci stato e mi riferisco ad una maggiore cura della tomba praticamente di questo importante concittadino al quale dobbiamo la nostra e la ringrazio della sottolineatura nell'augurio che ha fatto i consiglieri comunali biblioteca grazie consiglieri Ravagni allora se non ci sono altri interventi prego si si prego se sono i miei ori vi ringrazio appunto raccolgo la considerazione del consigliere Ravagni sulla quale era nota ma appunto stiamo lavorando per fare un rinnovo non solo di quella ma di alcune altre tombe che sono comunque nella cura del comune e do a questo punto lettura velocemente in sintesi del dispositivo per approvare regolamenti a biblioteca che è poi quello che andiamo a fare operativamente ora come consiglio comunale il regolamento attuale padeo per sintesi do per letta quindi effettivamente il dettaglio della delibera il regolamento attuale nasce nel 79 è stato rinnovato nell'86 e nell'88 quindi ha ormai più di 25 anni con la legge provinciale del 2007 poi la sua circolare applicativa del 2012 le caratteristiche requisite per i servizi della biblioteca del nostro sistema bibliotecario hanno fatto sì che fosse necessario fosse un nuovo sistema delle biblioteche creare le carte delle collezioni di carte dei servizi di cui ci ha appunto parlato il dottor Nemartin nella presentazione quindi è necessario ora revisionare il regolamento anche per fare questo tipo di adattamento il nuovo regolamento quindi introduce questi due strumenti e quindi allinea il nostro regolamento di biblioteca alla normativa inoltre appunto rinnovando il regolamento è occasione per modificare quello che è lo status della commissione che promana da questo consiglio quindi la commissione delegata agli ambiti culturali staccandola da quella che erano le mansioni anche piuttosto articolate legate anche a questioni tipo sindacale della commissione di biblioteca e quindi con oggi con la costituzione di questa commissione ora il regolamento individuerà nella giunta comunale avvalendosi dell'eventuale presenza della commissione competente in materia di attività culturali il luogo opportuno e legittimo per definire gli indirizzi di programmazione dell'attività della biblioteca quindi viene staccato sostanzialmente dal regolamento che andiamo a provare ora la commissione che invece andremo a definire tra due punti nell'ordine del giorno ecco quindi in sostanza questo è quanto modifica il nostro regolamento per cui appunto lo sottopongo al consiglio comunale ricordando che la commissione regolamenti il 22 dicembre ha dato parere favorevole all'adozione di questo regolamento grazie grazie assessore Miori allora pongo in votazione favorevoli contrari astenuti all'unanimità 21 voti e votiamo anche per rendere no? ha visto che c'era nel test allora mi dice il segretario che non serve l'immediata esecutività passiamo al punto 8 approvazione e regolamento dell'archivio storico comunale Federico Caproni prego assessore Miori attenzione grazie ringrazio di nuovo dottor De Martin procediamo il regolamento invece dell'archivio storico ha una situazione molto più semplice nell'insieme anche questo però aveva bisogno di un rinnovamento perché trattasi di un regolamento che risale a luglio 93 e da allora non è più stato sostanzialmente modificato do lettura direttamente del dispositivo poi per chi vorrà far commenti negli 1.93 la giunta comunale ha organizzato l'archivio in tre sezioni cioè l'archivio di ciò che viene prodotto dal comune l'archivio di ciò che è corrente quello che per noi è il protocollo detto in sostanza l'archivio di deposito e l'archivio storico ha adottato il regolamento un mese più tardi il consiglio comunale siamo sempre nel 1993 il regolamento per organizzare e definire il funzionamento dell'archivio storico quello che per noi appunto ha sede in Palazzo Giuliani si è da tempo manifestata la necessità di modificare questo regolamento sia per aggiornarlo sia per adeguare le esigenze attuali le modifiche principali che vi vengo a proporre e che sono già state sottoposte alla commissione regolamenti che le ha approvate il 22 dicembre sono le seguenti anzitutto il fatto che questo regolamento faccia un riferimento all'intera organizzazione archivistica del comune quindi ai tre livelli e quindi definisca come l'archivio storico si inserisce nell'ambito archivistico dei documenti prodotti dal comune che hanno più di 40 anni di vita e quindi hanno ragione di essere conservati in quel tipo di archivio fa tutto un aggiornamento e regolamento dell'elenco dei fondi posseduti e conservati se osservate qui il regolamento dell'archivio a differenza di quello di biblioteca non ha una carta delle collezioni ma dentro il regolamento sono definiti i fondi posseduti e conservati definisce le procedure di scarto e integra informazioni sui servizi per il pubblico sostanzialmente quindi andando a dire quali sono le modalità di ammissione di accesso come si devono comportare gli utenti dell'archivio e inoltre questo regolamento va a limitare l'utilizzo della postazione internet ai soli utenti dell'archivio fino ad oggi formalmente noi avevamo disponibilità di postazione internet per gli utenti sia presso la biblioteca dove c'è una sala dedicata sia era disponibile per gli utenti generici anche la postazione che si trova nell'archivio storico oggi non ci è sembrato più ragionevole tenere questa doppia collocazione laddove piuttosto se sarà necessario andremo a potenziare il servizio che c'è presso la biblioteca ma un luogo che peraltro non sono nemmeno tanto distanti uno forse nelle frazioni avrebbe un senso ma sono piuttosto vicini un luogo è dedicato al servizio internet per gli utenti l'altro è dedicato all'archivio laddove eventuali ricerche invece internet per ragioni archivistiche possono essere fatte presso l'archivio quindi questa è la modifica nella sostanza dell'utilizzo del servizio internet agli soli utenti dell'archivio in ultimo è stato specificato meglio in questo regolamento quali sono le responsabilità patrimoniali ed intellettuali di chi utilizza i documenti e le informazioni contenute nel nostro archivio quindi laddove vi siano per esempio pubblicazioni che fanno utilizzo o delle informazioni o in particolar modo di immagini dei documenti contenuti nel nostro archivio queste appunto modifiche sono la sostanza di quello che è l'aggiornamento del nostro regolamento quindi vi sottopongo alla votazione grazie Assessore Miori qualcuno intende porre delle questioni all'Assessore altrimenti adesso vedo qualcuno uscito però metto ai voti comunque favorevoli ha rientrato contrari astenuti allora passa con 20 perché manca l'assessore manca il sindaco e manca Ricci 19 19 19 voti favorevoli qui c'è bisogno dell'immediata no anche qui quindi passiamo al punto numero 9 che è il terzo della triade che riguarda la cultura Costituzione commissione consultiva in materia di attività culturali e nomina membri su proposta consigliare Assessore prego Sessore Minori sì grazie partiamo ora appunto con il discorso sulla commissione consultiva in materia di attività culturali che è già stata introdotta dalle modifiche del regolamento sul regolamento di biblioteca con l'adozione del nuovo regolamento do lettura del dispositivo e qui è molto specifico di biblioteca e la conseguente abrogazione del precedente regolamento viene meno il consiglio di biblioteca quale organo che interviene seppur limitatamente nell'ambito della biblioteca civica in materia culturale l'amministrazione comunale è intenzionata ad attivare una commissione consultiva che coadiuvi gli organi dell'amministrazione componenti nelle funzioni di indirizzo programmazione e controllo in materia di attività culturali ampliando anche il dominio di competenza rispetto al precedente consiglio di biblioteca l'oggetto è l'ambito del lavoro consultivo di questa commissione si articola nella valutazione o elaborazione di proposte in ordine alla programmazione culturale in materia culturale nel favorire l'integrazione dell'attività culturale proposta dalle strutture dell'amministrazione che per sommi capi sono Altogarda Cultura la biblioteca e il museo dell'Altogarda ma anche quella delle associazioni degli enti privati quindi tutti quelli che sono gli attori della propositività culturale nel nostro territorio e altro obiettivo è favorire la partecipazione della cittadinanza e delle associazioni locali alla vita culturale della comunità la commissione è prevista con carattere consultivo è previsto che rimanga in carica fino al termine del mandato consigliare i componenti della commissione estante alla funzione consultiva possono essere soggetti anche esterni al consiglio comunale possibilmente dotati di competenza nella materia la commissione sarà così costituita l'assessore competente tre rappresentanti eletti dalla maggioranza consigliare tre rappresentanti eletti dalla minoranza consigliare un rappresentante delle associazioni culturali eletto all'interno delle associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni di volontariato nel settore educativo culturale inoltre saranno presenti i responsabili o referenti delle seguenti strutture comunali la gestione associata Altogarda Cultura la biblioteca civica Bruno Emmert il MAG Museo Altogarda i responsabili o referenti non hanno diritto di voto in quanto componenti tecnici il presidente sarà eletto dalla commissione tra i membri aventi invece diritto di voto il segretario sarà nominato dal presidente tra i componenti tecnici per le sedute della commissione ed ogni altra attività della commissione non è previsto il riconoscimento di gettoni di presenza la commissione doveva presentare la relazione della propria attività al consiglio comunale almeno una volta all'anno il consiglio deve quindi procedere a nomina della commissione col sistema del voto limitato segreto uninominale per cui ricordandovi appunto che per la parte che riguarda il consiglio è chiesto di andare a nominare tre membri in rappresentanza delle forze di maggioranza tre membri in rappresentanza delle forze di minoranza mentre poi un rappresentante sarà eletto dal foro delle associazioni culturali che appunto andrò a convocare dopo questa saluta di consiglio una volta che appunto col vostro voto andrete ad approvare anche questa costituzione della commissione e dopodiché ci saranno i tre referenti di Alto Garda Cultura del Museo Alto Garda della Biboteca che sono sostanzialmente i funzionari che fanno confluire dentro questa commissione tutte quelle che sono le attività istituzionali nell'ambito della cultura grazie grazie Assessore Miori attendo allora la proposta dei nomi consigliere Veronesi prego come maggioranza proponiamo i nomi di Arianna Miorelli Ruggero Zanon e Daniele Caimi consigliere Rullo prego la minoranza propone i nomi di Michela Bombardelli nata al 25 781 in quanto ci sono degli omonimi Monica Morgan e Ilaria Amistadi mi può consigliere Rullo ripetere la data del Michele Bombardelli 25 07 81 81 sì 25 luglio 81 perché sanno già che c'è un omonimo un solo nome quindi bisogna trovare un attimo di accordo prego il scultatore di distribuire la scheda un solo voto per ogni scheda rappresentante che c'è un'altra che c'è un'altra con ottene . Grazie. 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 Grazie Sindaco. Il Consiglio è chiuso. Buon anno a tutti. Ci ritroviamo di là un attimo per gli auguri.